Buongiorno a tutti, innanzitutto vi ringrazio di essere qui, vi ringrazio il comune di Ascoli, è un bellissimo comune, sia un piacere, è un piacere per gli occhi, abbiamo aspettato un valore accademico, quindi possiamo procedere, ringrazio poi ovviamente la Concommercio per questo lavoro fatto insieme, fatto insieme al nostro segretario nazionale Roberto Capocasa che ha lavorato in modo continuo sulla questione della tematica delle autolettiche, autolettiche di PCV, come associazione di categoria, stiamo continuando a lavorare per la sicurezza dei nostri dipendenti, ma anche nostra, come dicevo in un'intervista rilasciata proprio tempo fa, l'imprenditore dell'autodemunizione non è un imprenditore normale, un imprenditore che ogni giorno entra e si porca anche le mani, non è un imprenditore che rimane in ufficio, un imprenditore che bonifica, ogni imprenditore che ritira le auto a sua camera è un imprenditore che pressa, potizza, sono pochi quelli che rimangono in ufficio, che tra colleghi lo sappiamo molto bene. Abbiamo iniziato una collaborazione con la Concommercio di Ascoli proprio per iniziare i corsi, verranno poi spiegati bene al mondo sparmieri sul perché abbiamo anche voluto farlo a livello nazionale, quindi apprezzato tutta la categoria e so che diversi colleghi anche da un'altra, da un'altra, dalla Calabria e si iscrive, quindi so che sta prendendo quota. E poi abbiamo un stretto rapporto con la CEI, non è la conferenza discopale, ma non è la conferenza discopale. E' un lavoro importante perché stiamo tentando di arrivare a un soccumento condiviso e condivisivo col Ministero sulle linee guida e sicurezza sull'auto elettrica, perché ad oggi non abbiamo nessuna linea guida, nessuna modalità, se non quante esporadica uscita delle case costrutturici. E questo rende pericolosa il lavoro sia per chi ritira il veicolo, sia per chi deve stoccare il veicolo per i giorni di inautorizzazione. Ma prima di iniziare ad entrare nel cuore della questione, io devo ringraziare il sindaco di Ascoli, Banco di Gravati, innanzitutto per l'ospitalità, poi per essere qui a iniziare i nostri lavori, quindi lascio la parola a noi e tutta l'Associazione Nazionale per l'autorizzazione di qualità, il nostro ringraziamento. Grazie mille a voi, buona giornata a tutti, sono molto contento di essere presente, grazie per aver scelto Ascoli, grazie al Consigliere Luca Cappelli che ha voluto organizzare con voi qui, all'assessore Monica Ciari, ringrazio al Commercio, saluto il Presidente della Camera di Commercio e anche Roberto Capograzza. E sono contento di essere qui perché purtroppo stiamo vivendo una fase delicata che nasconde anche grandi occasioni, però nasconde più rischi che occasioni. Sono molto politico ovviamente con la politica nazionale perché la politica si occupa di azioni facili ma non utili, come il PNRR, rischiamo di riempire di soldi la nostra ragioneria, però se non sblocchiamo il codice degli appalti rischiamo che rimangano lì fermi, come il 110, rischiamo di bloccare le città, le imprese e non mettendo in moto l'economia reale, bastava mettere il 70%, così come l'introduzione delle auto elettriche, ci sono molti benefit, però non abbiamo bisogno di un'azione, abbiamo bisogno di 100 azioni coordinate tra loro, mettendo in moto le associazioni di categoria, gli autodemolitori, tutta la filiera di costruzione e anche di attuazione delle auto all'interno delle città. Perché così facendo rischiamo che tra dieci anni abbiamo un caos sia di smaltimento sia di gestione. Mettiamo le colonnine a random, non c'è un piano integrato di ricarica delle auto elettriche, quindi stiamo andando contro un muro. Quindi questo convegno serve anche per sterzare e anche ridurre la velocità di questo treno che va verso un muro e per cercare di trovare una visione e soluzioni condivise. Quindi veramente grazie per aver scelto Ascoli e ad esempio la città di Ascoli Piceno che ha un bellissimo centro storico molto esteso, stiamo pensando di qui a dieci anni anche di una chiusura del centro solo con mezzi elettrici all'interno e con fornitori delle attività commerciali che possono entrare con i mezzi elettrici. Però non puoi fare una misura ed imporre oggi perché questo comporta costi aggiuntivi anche ad imprenditori che adesso hanno aumenti dei costi dell'energia e delle utenze. Quindi ci vuole una collaborazione, una interlocuzione e costruire un cronoprogramma, un work in progress facendo una strategia a breve, medio e lungo periodo. Quindi secondo me il convegno di oggi va in questa direzione e quindi accogliamo non solo questo convegno ma siamo disponibili ad aprire altri confronti con tutte le categorie per cercare anche di parlare del trasporto, dello stoccaggio e tutti i problemi connessi all'introduzione dell'elettrica. Io sono favorevole all'introduzione delle auto elettriche però ovviamente non basta dire io ti do i soldi per prendere l'auto elettrica poi non si sa come va a finire. Quindi bene gli autodemolitori grazie all'associazione che previene queste difficoltà che avremo in futuro. Quindi veramente grazie, buon inizio di lavoro. Io purtroppo vi lascio perché oggi ho anche la presentazione del palio della Quintana, la prossima settimana inizia la Quintana, fortunatamente quest'anno a pieno regime. Quindi buon lavoro a tutti e grazie. Grazie ancora Sindaco. I problemi che adesso lei ci ha posto sono i problemi che giustamente noi vediamo e molte volte io mi scaldo anche sul fatto quando ci viene detto che l'auto elettrica è il futuro. No, ormai è il presente. Io ricordo che ad oggi l'acquisto di auto elettriche ha superato il GPL che un tempo era uno dei mercati italiani anche importanti di percentuale è stato superato. Quindi attualmente viviamo, e poi ovviamente è a macchia di leopardo come presenza, però a Milano le auto elettriche stanno forti anche del fatto che da noi c'è l'area C, quindi se vuoi entrare nell'area C e non vuoi pagare devi avere l'auto elettrica. c'è anche una, diciamo, fobia ormai imperante verso tutto ciò che avvise la benzina e quindi ogni giorno si ha dichiarazioni di eliminare completamente dal centro di alcune città le auto, come a Milano c'è l'idea fra cinque anni. E quindi l'auto elettrica sta aumentando. Quindi non è il presente, noi stiamo vivendo il presente, molti colleghi ritirano quotidianamente auto, dico completamente elettriche, però qualcosa arriva perché dagli incidenti è vero che la Tesla ha qualcosa che finanzia per non che vada in demolizione perché non vogliono che venga controllata e spolpata completamente, però qualcosa è arrivato, personalmente arriva e noi ad oggi non sappiamo né quarantena né come deve essere bonificata. Procedo e ringrazio quindi, come ho detto poc'anzi, la ConfCommercio e Ugo Spalvieri per la sua presenza, farà un saluto e quindi vi passo la parola e ricordando e rammentando ancora di questa iniziativa che facciamo insieme alla ConfCommercio sull'importanza dei corsi. Il corso che io invito a fare non solo al datore di lavoro perché così si mette la coscienza a posto, perché all'interno ci deve essere almeno uno col corso sul pass e pay, ma io invito più gente possibile all'interno dell'azienda di fare di questo corso, sia per chi ritira la macchina, sia poi l'addetto alla bonifica, perché può essere molto importante. Poi se riusciamo ad avere qualche minuto ci sarà anche il dottor Pasquinelli che può spiegare l'importanza dei corsi visto anche nel mondo della certificazione. È richiesto. Prego. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono Spalvieri Ugo, il presidente della delegazione ConfCommercio di Ascoli, porto intanto i saluti del presidente Fausto Calabresi che in questo momento è occupato ad Ancona per altri impegni istituzionali, ringrazio immensamente il sindaco, attualmente è andato via per l'ospitalità a questo tipo di convegno, questo è un convegno per me importantissimo penso perché siamo in un capovolgimento epocale, stiamo passando da motori endotermici a motori elettrici, questo è un grosso problema che va risolto, sembra una cosa assurda ma l'elettrico purtroppo lavorando con tensioni molto elevate, dobbiamo fare una riflessione, già nel momento stesso in cui abbiamo un incidente autostradale chi deve venire a soccorrerti deve essere in grado di farlo, vigili del fuoco, addetti della sanità ed altre persone devono sapere come comportarsi nell'utilizzo dell'auto perché l'auto purtroppo potrebbe creare dei grossi problemi di salute, poi c'è il trasporto, il trasporto, la demolizione come diceva la bonifica e quindi anche questo sono altri problemi ma anche chi opera all'interno della diciamo normalmente tipo un elettrauto, l'elettrauto purtroppo per cambiare una lampadina oggi noi abbiamo auto, motori benzina e diesel, andiamo, sostituiamo la lampadina in 4 secondi per sostituire la lampadina di una macchina elettrica, non è così, la devi lasciare l'auto, scaricare la tensione della batteria e poi ricambiare la lampadina, quindi c'è tutta una sistematica, una problematica comunque che va affrontata, poi affrontiamo il problema della viabilità all'interno delle città, anche questo è un grosso problema perché purtroppo si sta attendendo alla chiusura dei centri storici per l'inquinamento, per l'allandamento sappiamo climatico, tutto quello che viene dietro, quindi è necessario comunque gestire l'elettrico in maniera importante, quindi con colonnine che possono essere idonee a ricarica delle auto elettriche che stanno incrementando anche nella vendita. Io adesso qui faccio una parentesi, forse è controcorrente, non so se l'elettrico effettivamente sarà il futuro perché da quello che da voci di corridoio nelle grandi aziende costruttici di auto probabilmente ci sarà una nuova tecnologia, una nuova sistema di combustibili, perché anche l'elettrico ha le sue problematiche, adesso non voglio entrare nel merito che andrei fuori tema, però l'elettrico purtroppo ha un'esigenza importante di smaltimento delle batterie, procurarsi il materiale per la costruzione delle batterie che è importantissimo, per dare sempre una maggiore autonomia alle auto elettriche abbiamo bisogno di materiali e batterie che sono sempre avanzate, ma per avere questi materiali noi dobbiamo soffrire nell'ambito del mondo, cioè vediamolo sotto un'ottica un po' più ampia, era una parentesi che mi sono permesso di fare io perché forse ho la sensibilità in queste cose, presumo che fra 70-80 anni arriveremo all'idrogeno probabilmente, che è un ulteriore combustibile che non dà inquinamento, che è acqua in effetti. Ok, chiudevo la parentesi. Adesso poi mi faccio riferimento ai corsi che stava menzionando, è importantissimo perché ovviamente se tu operi nel settore devi comunque essere pronto ad affrontare le problematiche a cui vai incontro nel momento in cui ti trovi di fronte a un'auto elettrica per demolizione, riparazione e quant'altro. E quindi i corsi secondo me sono cose importantissime anche perché andiamo su un discorso della sicurezza, noi parliamo tanto di sicurezza sul lavoro perché vedete, lo sapete tutti che giornalmente vengono a mancare persone e lavoratori che per la mancanza di sicurezza vengono a mancare per incidenti sul lavoro. Quindi sarebbe auspicabile evitare anche in questi settori altri incidenti dovuti a questo. Io mi taccio qui, lascio la parola a chi di dovere per continuare il convegno, ringrazio la vostra presenza e mi auguro che in un prossimo futuro avremo tutti la possibilità, in questo periodo prossimo e futuro, di avere un'auto elettrica anche a costi bassi perché tecnicamente siamo a livelli ancora molto elevati nonostante gli incentivi economici che dà lo Stato. Grazie e buona giornata. Perfetto, quindi passiamo alla parte dei saluti, iniziamo degli interventi e passo subito la parola all'assessore Monica Acciarri, assessore Smart City e alle politiche comunitarie del Comune di Ascoli. Qualcuno mi ha avuto presente della questione della presenza di molti, non ho cospicuo a parte istituzionale, io penso che sia importante perché è il continuo dialogo con le istituzioni che ci permette di rappresentare non solo alla fine delle problematiche però noi alla fine l'imprenditore vede le problematiche per poi trasformarle in opportunità e questa quella capacità innata della figura imprenditoriale e la cosa più importante è quindi parlarne e comunicare alle istituzioni per poter trovare anche una soluzione. Quindi ringrazio della disponibilità l'assessore e passo subito la parola. Grazie, intanto buongiorno a tutti e ringrazio appunto l'Associazione Autodemolitore di Qualità, la Camera di Commercio per questo convegno e per aver scelto Ascoli come sede di questo convegno perché poi l'integrazione tra l'evoluzione che tutti insieme stiamo vivendo e le città dentro le quali questa evoluzione si scrive è molto importante ed è fondamentale. Noi amministratori dobbiamo stare un po' dalla parte di quale visione di città vogliamo avere e rispetto a questo poi metterci dentro le auto elettriche, le auto ad idrogeno e quant'altro. Per cui il lavoro che va fatto è un po', io dico sempre come in tutte le cose, un cambio radicale di cultura nel senso che se questo unisce, se questo riesce ad unire le associazioni, le istituzioni, le imprese produttrici in una cordata virtuosa, allora noi questo tipo di evoluzione sicuramente riusciremo a gestirlo e riusciremo ad avere città che sono vivibili dal punto di vista ambientale e dal punto di vista anche della riappropriazione degli spazi. Io dico sempre, noi abbiamo una città che è fatta di rue e quando è stata pensata con le rue era pensata per una città di persone che camminavano a piedi o con il cavallo e poi abbiamo le circonvallazioni che sono state pensate proprio per la mobilità dell'auto in maniera diciamo più forte e più sfrenata. Quindi ecco, io credo che il ruolo delle amministrazioni locali in termini di scelte che si fanno per abbiutare tutta quella che è la mobilità, la nuova mobilità è molto importante perché altrimenti se non c'è questo lavoro a cura delle amministrazioni è molto difficile poi implementare tutto il resto e tutte le problematiche. Per cui ecco, noi stiamo facendo la nostra parte rispetto a una mobilità che poi ci deve vedere integrati tra mobilità di servizi pubblici, tra auto elettriche, tra piste ciclabili che si collegano un po' tra di loro. Quindi questo è il lavoro che stiamo cercando di fare ma io dico sempre che la cosa più difficile, il compito più difficile che abbiamo è quello di far capire alla popolazione che non ci si può, voglio dire, leggere il giornale sull'auto elettrico, andare a vedere le auto elettriche perché ci incuriosiscono e poi però chiedere alla politica che faccia quante più parcheggi possibili, quante più strade in centro storico fruibili possibili perché le due cose non vanno d'accordo. Allora sicuramente questa è la parte più difficile in cui dobbiamo essere tutti impegnati visto che l'evoluzione comunque va in quel senso, visto che le città sono ancora, al di là del fatto che ci vorrebbe e dovrebbe essere un recupero dell'agricoltura ma le città sono ancora il centro urbano ed economico più importante, voglio dire, della nostra vita, dobbiamo cercare di ridisegnarle nel modo giusto e non, come dire, rincorrere l'evoluzione della tecnologia ma cercare un po', io dico, di prevenirla e di guidarla perché prima parlavamo anche delle problematiche sulle auto elettriche che poi si determinano anche nel doverle riporre o altre tipologie di situazioni, ecco noi dobbiamo stare proprio al fianco delle associazioni, al fianco delle situazioni per essere dei facilitatori dal punto di vista di un'evoluzione che ormai è nelle cose e che dobbiamo, come dire, in tutti i modi supportare in un dialogo costante con le parti che, diciamo, siedono al tavolo di questa bella e appassionante evoluzione e che però, come tutte le belle e appassionanti evoluzioni, insomma, va un po' guidata e va un po' dialogato con i cittadini anche conforme un po' a volte io dico, a volte bisogna essere anche un po' duri in alcuni passaggi come quando si chiude una strada nel centro storico, si chiudono i centri storici cioè bisogna farlo perché poi l'evoluzione va in quel senso e noi dobbiamo essere pronti da questo punto di vista. Grazie. Grazie mille Assessore e ora la parola mi permetto anche di ringraziarlo perché è con lui che abbiamo iniziato la decisione di fare questo incontro ad Ascoli che abbiamo strappato a San Benedetto del Tronto perché nasceva l'idea di farlo a casa del collega di Roberto Capocasa, il nostro segretario però giustamente Luca mi ha detto Ascoli è più bella e quindi si è deciso lui non è tanto di questi poi sul campanilismo vostro locale non metto becco però mi ha detto facciamola ad Ascoli e io lo ringrazio perché poi ci lega anche un'amicizia di militanza comune all'interno del movimento cristiano lavoratore e quindi ha detto no, non posso non farla ad Ascoli quindi io presento il consigliere comune ad Ascoli nonché presidente di Start Plus grazie Ruggero per le tue parole effettivamente anche San Benedetto è bellissima il Piceno è tutto bello quindi abbiamo scelto Ascoli per motivi logistici voglio dire no, ringrazio l'associazione che diciamo Ruggero Presiede che sono gli autodemolitori di qualità ringrazio la Conf Commercio vedo qui l'amico Gino Sabatini che è il presidente della Camera di Commercio quindi diciamo che il mio intervento sarà un po' diciamo più tagliato sul trasporto pubblico visto che l'azienda che presiedo si occupa di quello dicevamo mi sono scritto alcune cose perché poi magari la memoria potrà dirmi allora me le sono scritte no, dicevamo che il settore del trasporto pubblico locale noi sappiamo che anche nel PNRR è diverso un ruolo fondamentale in particolare nella missione 2 che è rivoluzione verde e transizione ecologica e nella missione 3 infrastrutture per una mobilità sostenibile e queste diciamo due misure legano diversi diciamo poste la prima è il rinnovamento del materiale rotabile su gomma l'acquisto di materiale rotabile ferroviario il potenziamento e la messa in sicurezza delle linee regionali e lo sviluppo di sistemi di trasporto rapido di massa e il PNRR prevede che l'acquisto di 717 autobus ad alimentazione elettrica e idrogeno entro il 31 dicembre 2024 nonché di 3.000 quasi 3.000 autobus ad alimentazione elettrica o a idrogeno entro il 30 giugno 2026 diciamo che però diciamo il PNRR riguarda più che altro questa prima parte tutte le città metropolitane quindi il Piceno Ascoli e San Benedetto diciamo dove insiste la società che presiedo non è previsto noi rientreremo per l'acquisto dei pullman sul piano strategico per la mobilità sostenibile sul fondo FSC ed il fondo MIT dal 2018 al 2033 utilizzando questi fondi sarà possibile anche acquistare autobus elettrici ma i numeri sono piuttosto bassi a causa dell'alto costo degli autobus elettrici che costano circa il doppio di quelli normali quasi 500.000 euro cada uno noi adesso ne compreremo due elettrici per il centro storico più che altro però diciamo che già solamente la Start Plus avrebbe bisogno di 60 milioni di euro per rinnovare il parco macchine dell'azienda è una cifra tenete conto non so l'ATM di Milano non so quanto potrebbe spendere per cambiare il parco mezzi però io vorrei fare una riflessione più che altro sulla situazione attuale perché i tragici avvenimenti internazionali cui stiamo assistendo stanno determinando effetti gravissimi come l'esplosione dei costi di energia e carburanti da trazione con riflessi che investono l'intero sistema produttivo e la continuità dei servizi di trasporto pubblico locale basti pensare che nel nostro settore oltre il 95% del parco veicolare alimentato a gasolio a livello nazionale o a metano e dall'analisi dell'andamento dei prezzi dei principali carburanti utilizzati da gennaio ad aprile 2022 si è registrato un incremento medio rispetto all'anno precedente pari al 40% del prezzo del gasolio e oltre il 100% del prezzo del metano e il trend per il secondo quadrimestre è ancora negativo con un ulteriore incremento analoga situazione sia sul fronte dell'energia elettrica e per aziende che svolgono servizi di trasporto ferroviario l'incremento dei prezzi raggiunge il 135% allora le conseguenze come possiamo vedere sono riportate epocale e sono tali da compromettere anche la regolarità e la continuità del servizio di trasporto pubblico locale e dare in modo significativo il processo degli investimenti previsti dal PNRR allora io mi chiedo e da altre fonti anche di finanziamento siamo certi questa è una domanda che lascio poi qui abbiamo anche l'ingegner Paoletti che è molto più ferrato di noi in materia siamo certi che la transizione ecologica attualmente è veramente attuabile e possibile speriamo grazie e con questo forte interrogativo chiedo se è possibile procedere del video dell'assessore Stefano Aguzzi assessore all'ambiente della regione Marche buongiorno a tutti dispiace molto non poter partecipare a questa iniziativa ma avevo già cose prese in precedenza e i territori da dove sono già impegnato a dove si svolge questa iniziativa sono troppo lontani per poter purtroppo unire le due cose però ci tenevo intanto a fare un saluto a tutti quanti voi cominciando ovviamente dal sindaco di Ascoli Piceno amico Fioravanti ai vari assessori consiglieri l'assessore Aciarri consigliere Cappelli che hanno organizzato insieme al presidente della Confcommercio di Ascoli Piceno e il presidente degli autodemolitori il tema che voi trattate è un tema diciamo che è molto sentito in questo momento ma più che sentito è un tema di cui si parla tanto e io non so sinceramente fino a che punto questo è un mio umile punto di vista fino a che punto si parli con cognizioni di causa quando si parla di queste situazioni e ovviamente non mi riferisco a chi oggi porta avanti questa iniziativa che invece è e sarà molto utile proprio per mettere in evidenza quelle che sono le realtà legate alle cosiddette auto elettriche alle innovazioni tecnologiche di cui si parla molto e del risparmio energetico quando io dico non so quanto la gente possa diciamo così intuire fino in fondo la specificità di questo tema penso a questo ad esempio oggi si dice comunità europea dal 2035 non ci devono essere più produzioni di auto diesel benzina eccetera ma solo auto elettriche questo è indubbiamente un qualcosa di auspicabile però va anche ben specificato che è talmente delicato questo tema difficile da cogliere da raggiungere che non si deve neanche mettere così in discussione con superficialità anche perché poi si mette in discussione proprio quella che è una storia una cultura ma si smette in discussione quella che è una produzione oggi un'economia complessiva legata al mondo dell'auto dei trasporti e quant'altro quello che con molta superficialità viene trattato dal mio punto di vista è proprio questo le persone dicono beh certo l'elettrico non inquina quindi di conseguenza bisogna riconvertire io pongo un'altra questione l'elettricità non è che esce semplicemente dalla spina attaccata al muro ma ovviamente deve essere prodotta a monte dipende come e in quale modo la produciamo e se la produciamo diciamo così a livello di sufficienza complessiva questo sarà molto più difficile da cogliere in un momento come questo dove invece a livello generale stiamo invertendo la rotta perché si parla sempre di fonti rinnovabili fonti sostenibili si supera o si deve superare completamente il carbone eccetera noi in questo momento anche a causa di questa benedetta e maledetta guerra che si sta svolgendo alle porte dell'Europa noi invece stiamo proprio riattivando le centrali a carbone quindi stiamo invertendo un trend che era del tutto auspicabile quello del minore inquinamento e un'economia più verde più vocata diciamo così alla tutela dell'ambiente di conseguenza pensare di sostituire tutte le forme oggi energetiche con quelle elettriche comprese le auto senza avere a monte la coscienza la consapevolezza che poi per produrre questa energia elettrica o ci vochiamo al nucleare non vogliamo prendere più il gas da nazioni che il gas ce l'hanno non vogliamo giustamente io dico non dovremmo riattivare le centrali a carbone il fotovoltaico l'eolico che sono auspicabili comunque sono ancora diciamo messi in campo in maniera assai limitata e difficilmente cropriranno il 100% del far bisogno di conseguenza quando si parla di elettrico è un tema molto molto delicato che va e andrebbe molto più approfondito resa molto più consapevole la società e tutti i cittadini di quanto si sta discutendo perché altrimenti si rischia di lanciare degli slogan che poi magari potrebbero essere fine a se stessi detto tutto questo non vuol dire che Stefano Aguzzi è contrario alle auto elettriche è contrario a questa evoluzione che cerca di tutelare diciamo l'ambiente e le emissioni di gas nell'atmosfera e quindi tutelare quando alla fin fine il mondo intero la nostra stessa salute ripeto bisogna essere molto realisti in questo senso e anche sotto questo punto di vista io posso auspicare ovviamente una riconversione di queste attività una ricerca in stato avanzato di nuove fonti di energie rinnovabili che non inquinino sotto questo punto di vista c'è un grandissimo percorso da fare che difficilmente temo sarà fatto entro il 2035 però ogni sforzo va colto e ogni iniziativa viene messa in campo proprio oggi stiamo individuando la società che dovrà redigere il nuovo piano dei rifiuti regionali anche dagli stessi rifiuti si può produrre tanta energia ma ad esempio se ne parla molto ma nelle Marche ancora non c'è un'impiantistica avvocata alla produzione di energia da rifiuti e quando poco poco si parla di eventuali termovalorizzatori arrivano subito tutte le proteste del mondo da parte di cittadini i comitati anche amministratori di conseguenza come si può parlare di fonti energetiche alternative se non si accetta poi a Monti il modo di produrle quindi ecco sotto questo punto di vista serve una grandissima grandissima opera di conoscenza di approfondimento e anche di opinione pubblica complessiva per questo voi fate bene a portare avanti questa iniziativa oggi che parla di questo specifico problema in questo caso particolarmente di auto elettriche di smaltimento di quelle che poi saranno le auto elettriche una volta che non si utilizzeranno più le batterie quant'altro non è tutto così semplice però parlarne è un modo per introdurre un tema che viene tendenzialmente descritto con molta superficialità ed è invece molto 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 più complesso ed allora faccio un plauso a questa iniziativa perché proprio per questa complessità e non sempre consapevolezza di tutti i cittadini di quella che è la materia che si sta trattando a iniziarla ad approfondire attraverso anche questi incontri è indubbiamente positivo quindi vi auguro buon lavoro e speriamo di poter presto prendere una via che sia sì sostenibile ma anche credibile dal punto di vista diciamo di fonte energetiche e di sostenibilità reale poi messa in campo buon lavoro a tutti quanti ottimo e passo la parola al dottor Davide Miracola che è il nostro responsabile formazione nazionale dell'associazione buongiorno a tutti colgo l'occasione per ringraziare il presidente Ruggiero del Vecchio una nota va a tutti i soci di ADQ in questi anni che vi sto conoscendo state dimostrando attenzione per il mondo dell'economia circolare che siete i primi attori nel territorio che vi spendete imprenditorialmente in questo nuovo sistema che ormai come stiamo vedendo da tutti gli interventi è opinabile opinabile perché comunque è in continua evoluzione a questo noi come facciamo fronte come associazione con la formazione quindi colgo comunque l'invito a partecipare ai corsi di conf commercio perché comunque danno un'opportunità in più di capire questo sistema in continua evoluzione e per stare a passo con i tempi dobbiamo essere comunque sempre formati noi siamo stati abituati fino adesso solo con la formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro con l'8108 che è ovvio che deve essere sempre fatta questo tipo di formazione per la nostra sicurezza ma credo che ci stiamo fermando solo in questo ora il corso di formazione non è solo sicurezza sui luoghi di lavoro che assolutamente deve essere sempre fatta per tutte le problematiche che ci sono ma riguarda anche una formazione per i dirigenti una formazione imprenditoriale perché il mondo sta andando troppo troppo velocemente e forse anche a livello nazionale non siamo a passo con i tempi quindi anche gli enti di ricerca anche le università stanno facendo uno sforzo non da meno in questo come è noto in questi anni sono stati i fondi interprofessionali a diffondere e a finanziare la formazione continua anche tra le piccole e micro imprese si è costruito così un immenso patrimonio di vicinanza e di conoscenza e si sono strutturati consolidati meccanismi di cooperazione con il mondo imprenditoriale i fondi possono davvero sostenere la formazione anche attraverso associazioni temporane di impresa con fondazioni rispetto in pieno il compito delineato dei pat di promuovere energie tra imprese o enti istituzioni di ricerca credo non ci sia contesto più fecondo di quello già preparato dai fondi interprofessionali per accogliere e sostenere il ruolo cardine dell'alta formazione come meccanismo che creo opportunità nell'apprendimento valore e quindi vantaggio competitivo la volontà politica di istituire i patti territoriali dell'alta formazione delle imprese è uno strumento importante ma per costruire un efficace ecosistema della formazione permanente vanno coinvolte anche le micro e le piccole imprese fino a oggi lontano dall'alta formazione c'è stata questa misura di 290 milioni di euro il decreto è stato pubblicato il 18 maggio e si parla appunto dei patti territoriali dell'alta formazione il nostro obiettivo adesso è iniziare a progettare per inserirci nei patti territoriali per garantire un cofinanziamento statale a queste iniziative sono stati stanziati complessivamente 290 milioni di euro di cui 20 milioni nel 2022 e 90 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 questi verranno ripartiti poi con un decreto appunto del presidente del consiglio dei ministri prototempore l'obiettivo principale della norma è incentivare le università e costruire sinergie e aggregazione sia in forma associativa e con i patti appunto con le imprese patti con le imprese patti con le istituzioni di ricerca e patti con i privati ecco che qui anche la Star Plus dove il presidente appunto Cappelli ricopre in questo momento può essere anche un'opportunità per questo territorio quindi presidente del vecchio ti invito anche a te a instaurare questa sinergia già da oggi con la Star Plus per un progetto del genere i progetti possono anche prevedere iniziative per sostenere la transizione dei laureati nel mondo del lavoro e la formazione continua a promuovere il trasferimento sia tecnologico per quanto riguarda le piccole e medie imprese quindi non si parla più di una formazione mirata solo ai dipendenti ma si guarda sempre anche all'imprenditore dando le nozioni ingegneristiche dando le nozioni matematiche non è ormai più tutto scontato quindi ci manca solo di progettare ed essere partecipi in questa nuova transazione ecologica grazie grazie Davide gentilissimo come sempre e anche preciso su le varie opportunità e ora vado al nocciolo della questione io quando abbiamo deciso il titolo l'ultima parte abbiamo detto le problematiche perché ce ne sono ma da affrontare insieme perché è importante non lasciare nessun collega indietro io penso anche io prossimo anno festeggio 60 anni nella mia attività e penso anche a mio papà che ha vissuto del motore endotermico ora si trova a vivere una nuova realtà di un motore che non ha mai visto una situazione nuova completamente nuova dove molte volte non si ha la possibilità di affrontare insieme nel mentre che poi la parte tecnica procede con le slide la questione che pongo è anche di un lavorare insieme ma non solo con quella filiera che ci siamo sempre detti di autodemolitori quindi concessionario autodemolitore mulino fonderia bensì abbiamo iniziato un lavoro anche ringrazio anche gli amici che sono venuti a trovarci di Anxa siamo andati al loro congresso nazionale proprio per iniziare a instaurare un rapporto perché anche loro come centri soccorso veicoli vivono la questione non ci siamo visti dal vivo perché se non erro affrontava ai lei anche il covid però la formazione è stata importante perché poi siamo noi attori che non sempre siamo stati dalla filiera però che affrontiamo un problema insieme e questo ecco non solo con le istituzioni ma anche tra colleghi imprenditori quindi io lascio la parola ringraziandolo veramente ringraziando Roberto perché so che su questo si è impegnato veramente tanto su i rapporti con il vice comandante dei vigili del fuoco ingegner Paoletti perché chi vede le mail quasi quotidiane di Roberto ci sta da al di là che su ogni problematica relativa alla categoria ci dà anima e corpo ma su questo sto vedendo una continua attenzione perché sappiamo di alcuni casi un assisto a Milano un collega che è rimasto anche a Milano fuorato quindi non si scherza su questa materia quindi onde evitare altri problemi anche come noi associazioni abbiamo sposato in pieno la volontà di Roberto di impegnarsi sulla tematica quindi mi taccio vi lascio l'ascolto dell'ingegner Paoletti bene buongiorno a tutti allora mi presento sono l'ingegner Roberto Paoletti sono il vice comandante dei vigili del fuoco di Ascoli Piceno ringrazio l'amico Roberto Capocasa per l'invito e tutti i vari sponsor io mi occupo di soccorso tecnico urgente quindi ieri eravamo crotto a mare per la ricerca della persona scomparsa poi i grandi rischi per le aziende che stavano in Seveso e sono ingegnere nucleare e quindi ho la passione anche per tutto quello che riguarda l'energia quindi sono energy manager per il ministero dell'interno sono iscritto alla FIRE quindi la federazione nazionale per il consumo dell'energia e mi occupo di tante altre cose anche RSPP quindi per quanto riguarda la sicurezza mi hanno chiesto di intervenire a questo convegno con varie tematiche che riguarda un po' la parte ambiente e la parte sicurezza anche nel soccorso quindi dobbiamo stare insieme circa un paio di giorni perché la tematica chiaramente è tratta una serie di discipline e ho pochissime slide e cerco di essere proprio breve e dare dei input che magari possono dare curiosità e qualche informazione alla materia allora partirei subito dalla slide successiva la cambio io la puoi cambiare tu ok allora noi a casa faccio un esempio molto pratico noi a casa abbiamo io e mia moglie che tra l'altro è anche presente quindi devo stare attento come parlo abbiamo due macchine l'Audi A4 che è mia e la Cascai che è di mia moglie qui sono foto le macchine nuove noi ce le abbiamo un po' datate la mia in particolare ha 14 anni con la quale vengo al lavoro e la macchina di mia moglie è un po' più recente 2015 adesso l'idea è visto tutte le recenti informazioni sulle auto ibride elettriche la cambiamo? allora oggi non è più facile prendere una decisione cambia una macchina piuttosto che un'altra va benissimo sono tutte uguali no sull'elettrico c'è un mondo c'è un mondo sulla sicurezza ci sono tante cose allora innanzitutto io faccio un percorso da grotta a mare per venire ad Ascoli per lavoro che faccio autostrada superstrada quindi devo trovare una macchina che sia compatibile con questo tipo di ciclo che faccio poi al fine settimana prendiamo una macchina mia moglie così paga lei la benzina però voglio dire allora quindi ho visto un po' su internet le varie proposte non faccio pubblicità a nessuna casa costruttrice ma chiaramente per fare anche un corso bisogna anche dire due parole la prima cosa che mi è venuta in mente è una macchina piccolina quindi la macchina da sostituire non è la mia non la posso prendere una macchina ibrida o elettrica perché non mi conviene la macchina ibrida sull'autostrada non è conveniente perché la macchina ibrida ha un motore a benzina e un piccolissimo motore dopo dipende dalla tipologia è un motore elettrico però su lunghi tragitti specialmente in velocità andrebbe la macchina a benzina e quindi per me non sarebbe conveniente quindi ho detto vabbè una 500 mild hybrid che è un misto ha praticamente il motore elettrico è piccolissimo e normalmente va a benzina il motore elettrico serve per alcuni aspetti tipo potrebbe servire per l'aria condizionata per altre cose ma fondamentalmente va col motore a benzina quindi se vogliamo essere concreti oggi si parla molto di micro mild sono diciamo la prima tipologia la più semplice di macchine ibride se vogliamo essere seri di parlare di ambienti in maniera seria la micro e la mild hybrid non hanno nessun beneficio perché i consumi la danno la casa costruttrice la dà 25 km al litro a benzina in realtà altri siti poi 4 ruote eccetera se guardate i consumi scendiamo a 18 quindi significa che i benefici per l'ambiente in realtà non sono non è un miracolo cioè alla fine non cambiano nulla dopodiché quindi vi parlo i primi 10 minuti vi li consumo sulla parte ambientale dopo andiamo sulla sicurezza dopodiché ho visto una macchina simile a quella che abbiamo adesso la Nissan full hybrid serie poi vi dico cosa significa il prezzo sale 30.000 euro full hybrid significa che ha un motore un po' più importante elettrico e quindi in città può andare solo con la parte elettrica però siccome noi andiamo spesso in Polonia con questa macchina qui chiaramente faremo fatica perché tutta l'autostrada chiaramente full hybrid andrebbe a benzina anche qui l'alternativa la Volvo XC40 quello che ho visto io ma a Riberma ce ne sono ormai migliaia di auto 100% elettrica quindi non ha più il motore a benzina non ha più il motore endotermico tutto elettrico pacco batterie autonomia purtroppo è la difficoltà del mondo moderno cioè ci stiamo confrontando sulle batterie che hanno ancora autonomie intorno ai 500-400 km dati della casa costruttrice in realtà i consumi sono molto più alti quindi se dicono 400 siamo intorno a 300 km di autonomia e non è sufficiente per farci un viaggio il problema è che anche con una ricarica in corrente continua in autostrada stiamo parlando di 2-3 ore fermi per fare la ricarica quindi su un viaggio molto lungo chiaramente è un tempo importante il costo ovviamente inizia a salire perché parliamo di macchine più importanti quindi 60.000 euro insomma una macchina elettrica siamo su prezzi importanti chiaramente mia moglie quando vi ho fatto vedere queste cose che cosa può scegliere la Volvo perché gli piaceva di più più grande a parte questo allora quindi voglio dire che c'è una serie di offerte allora parlando dice sì però la macchina elettrica non consuma né diesel né benzina quindi rispettiamo un po' l'ambiente no non è così perché se non abbiamo sicurezza da dove prendiamo da dove compriamo l'energia elettrica il 60% dell'energia elettrica prodotta in Italia proviene dal metano quindi nessuno può avere certezza da dove prendiamo questa corrente elettrica se andate su internet ci sono venditori società che vendono l'energia elettrica green verde al 100% green no non è così sono tutti falsi perché poi comprono i certificati verdi c'è tutto il mercato eccetera in realtà il 60% dell'energia che prendiamo dentro casa proviene dal metano fondamentalmente quindi o abbiamo questa situazione qui o tutto il resto significa che non abbiamo garanzia che stiamo facendo un bene per l'ambiente altro aspetto prima parlava il sindaco il futuro si è parlato insomma l'energia carbonica è responsabile fondamentalmente del cambiamento climatico ovvero i due fattori stanno salendo insieme quindi aumento della temperatura globale e aumento della CO2 emessa l'Italia se andate su qualsiasi sito più o meno siamo su questo su questi dati e l'Italia emette l'1,5% dell'anidride carbonica della CO2 emessa a livello mondiale quindi quando sentite qualcuno a livello europeo politica e tutti i vari settori che vi dicono l'Italia può salvare il mondo sappiate che l'Italia emette l'1, qualcosa per cento di CO2 quindi non siamo noi che poter salvare il mondo noi dobbiamo fare il nostro come tutti i paesi tutti i paesi al mondo tutte le persone si dovrebbero impegnare per l'ambiente perché è nostro però i dati dicono questo quindi noi possiamo spegnere l'Italia domani avremo un risparmio dell'1% circa quindi il cambiamento climatico purtroppo andrebbe avanti ugualmente altro aspetto il problema più grande è che in Italia abbiamo ancora circa 23 milioni di automobili di veicoli che hanno più di 10 anni quindi sono euro 4 indietro questi possono consumare chiaramente consumano e inquinano in qualche modo di più ovviamente delle macchine più moderne se volessimo fare una cosa seria seria per l'ambiente dovremmo agire sulla sostituzione di queste di queste macchine quindi di questi 23 milioni di autoveicoli il problema fondamentale qual è che le macchine costano e quindi se moltipliciamo per circa 30 mila euro fatto una media per l'autovettura stiamo parlando di circa 800 miliardi ok 800 miliardi l'Italia se voi guardate le varie aziende italiane che producono automobili Fiat, Lancia e Alfa noi produciamo il 5% delle auto che compriamo ok su 100 macchine che compriamo 5 le facciamo in Italia questo significa che tolto poi il guadagno per concessionario tolto l'IVA eccetera potremmo rischiare cioè comunque è un dato su cui confrontarci di far uscire dall'Italia nei prossimi anni perché qui si parla al giro 2030 quindi domani di far uscire circa 400 miliardi dall'Italia sono 400 sono 300 sono 500 non lo so ma è un dato su cui riflettere quindi a livello economico per l'Italia investire sulla macchia elettrica è giustissimo a livello ambientale tutto quello che volete ma bisogna fare delle riflessioni insieme non è possibile buttarsi a capofitto su un progetto quando poi si rischia di far uscire dei miliardi tanti dall'Italia ovviamente se guardate altre nazioni sono messe meglio di noi per esempio qui ho messo non per fare pubblicità alla Germania però loro hanno circa 14 case costruttrici collegate o in qualche modo dipendenti da loro o proprio in Germania quindi la Germania sicuramente è messa meglio di noi per la produzione di auto quindi se investono 800 miliardi sulle auto elettriche una buona parte rimane a loro cioè mentre a noi rimane 5% più IVA eccetera a loro rimane tanto ma anche i francesi che sono molto nazionalisti voi difficilmente troverete un'auto della polizia dei vigili del fuoco di una marca che non è loro della loro nazione quindi sono nazioni che sono molto più legate a un'ideologia noi molto meno se voi io ho messo la foto di Flexibus che è tedesca Flexibus se andate in giro vedete tutti Pullman Mercedes Oman che sono della Germania quindi è anche una questione di mentalità cioè noi abbiamo una mentalità anche diversa da alcuni paesi e questo è un confronto cui dobbiamo in qualche modo valutare dobbiamo parlarne quali sono le priorità ci sono alcuni paesi quando vado in Polonia passo la Repubblica cieca a volte la Slovenia la Polonia anche e signore qui ci sono ancora paesi il cui il riscaldamento domestico è fatto ancora col carbone quindi non potete dire Europa che siamo noi italiani con calma perché qui ci sono paesi in Europa che hanno bisogno forse prima di noi sulla riduzione di certe emissioni ci sono paesi che anche la Germania stessa molta dell'energia elettrica è prodotta ancora dal carbone ok se voi andate in alcuni paesi questa è mia e quindi vedete un deposito di carbone dove la gente va a comprare con la pala mettendo il camion e portano a casa della gente il carbone che è molto più inquinante rispetto al metano rispetto ad altre energie quindi è una questione anche di priorità che l'Europa dovrebbe dire su questi aspetti noi come vi dicevo il 60% dell'energia elettrica quindi il problema macchine elettriche problema economico non da sottovalutare poi prima si parlava chi produce poi questa energia elettrica come vi dicevo circa il 60% dell'energia elettrica è prodotta ancora dal metano quindi significa che questo valore tra l'altro importata dalla Russia con tutte le difficoltà che sappiamo oggi adesso siamo scesi circa dal 38% al 25% ma se la Russia continua a girare il rubinetto a noi ci mette in grossa difficoltà per riscaldamento per tutto quanto quindi se andiamo ad aggravare le nostre centrali elettriche avremo un sovraccarico una necessità di energia elettrica sempre maggiore considerate che voi a casa utilizzate sempre più elettrodomestici forno elettrico lavastovie asciugatrice questi elettrodomestici prima non c'erano sono usciti negli ultimi 10 anni che abbiamo quasi tutti dentro casa quindi l'aumento cioè l'energia elettrica che consumi possono solo aumentare e con che cosa le produciamo quindi prima ci dovremmo domandare ok chi produrrà l'energia elettrica in Italia in futuro voi considerate che il fotovoltaico e l'eolico sono circa 8,6% solo un dato se andate sui siti dell'Enea li trovate questi dati questi dati questi impianti ci sono costati negli ultimi 10 anni circa 80 miliardi benissimo abbiamo investito sull'ambiente benissimo 80 miliardi il piano della transizione energetica prevede investimenti circa per 60 miliardi più 20 miliardi per il trasporto quindi più o meno siamo su quello che abbiamo fatto fino adesso non si fanno miracoli con 80 miliardi cioè scordiamoci di poter cambiare radicalmente l'Italia in giro di pochi anni con 80 miliardi non è questo o l'Europa finanzia pesantemente un obiettivo se no così diventa anche difficile per noi poi qui io sono ingegno nucleare quindi vi metto solo i dati in maniera cerco di essere più esterno possibile dalla mia idea vi metto solo dei dati noi produciamo consumiamo circa 300 terawatt una certa quantità di energia una montagna tanta come dicevo il 60% corrisponde circa a 187 terawatt se ci raggiungiamo i 40 che dovrebbero essere previsti per le macchine elettriche raggiungiamo una quantità importante per raggiungere la quantità di energia elettrica che attualmente quindi sostituire per essere pratici il metano con il fotovoltaico avremo bisogno nella superficie circa tre volte ascolipiceno quindi ecco le complicazioni che ci sono di investire solo su un'energia alternativa questo significa l'equivalente di 18 milioni di tetti in Italia ci sono 12 milioni di case quindi abbiamo delle difficoltà tangibili non si può fare tutto così in maniera rapida qui ho messo solo il dato tutto questo potrebbe essere sostituito con 10 11 centrali nucleari poi dopo se avete piacere o anche mentre parlo mi fate domande non mi fate parlare molto solamente perché potrei parlare veramente per giorni tra l'altro voi non lo sapete ma chiaramente io sono un po' al dentro delle questioni energetiche quindi ho anche amici colleni eccetera che mi hanno detto che qualche mese fa abbiamo rischiato un blackout elettrico in realtà un blackout dovuto alla mancanza di metano perché si è rotto un compressore in Austria e quindi per diverse ore non abbiamo avuto la fornitura di metano per fortuna i nostri depositi temporanei erano abbastanza pieni quindi ci siamo salvati se no c'era un'emergenza sulla sicurezza nazionale che avrebbe messo in difficoltà l'Italia carbone quando si parla di carbone l'Italia non fa parte dei paesi che consumano carbone se guardate su tutti i siti appaiono tantissime altre nazioni sempre la Cina in prima loro sono anche tanti però l'Italia quindi quando si parla di decarbonizzazione dell'Italia sembra una cosa noi abbiamo tre o quattro centrali ancora a carbone a parte quello che forse dobbiamo siamo costretti a riattivare ma insomma l'Italia fondamentalmente non appare nella lista di quelli che consumano carbone un altro dato si è parlato molto del super bonus allora a livello quando ne parlo molti mi dicono ma sì però a livello ha dato impulso all'economia all'edilizia ok era partito però come un beneficio per l'ambiente se andate su Intra tra qualche parte comunque c'è un bellissimo rapporto scritto da me in cui basandomi su tutti i dati dell'Enea il reale beneficio del super bonus italiano per l'ambiente globale quindi ai fini della riduzione della CO2 globale stiamo parlando di qualcosa che è dell'ordine dello 0,00936 ve lo dico in un'altra maniera al cambiamento climatico del super bonus italiano non gliene può fregare di meno cioè se c'è un cambiamento climatico questo va avanti tranquillamente senza nessun tipo di cambiamento nessuna modifica nessuna miglioria perché non è questa la strada poi se vogliamo parlare a livello edile perché dovevamo rimettere a posto un tessuto edilizio eccetera questo è opinabile considerate che abbiamo efficientato 150.000 case in Italia ci sono 12 milioni di casi tutto il resto non si sa ok poi qui vi do due mie riflessioni personali quindi non da vigile del fuoco non da vicecomandante sono mie personali io penso che in Italia ma così un po' in giro per il mondo i soldi investiti per l'ambiente molti vadano per speculazione e troppo pochi per per la fine ambientale veramente per sistemi per qualcosa che possa essere di aiuto all'ambiente un'altra considerazione sempre mia personale se non ci fosse stato l'incidente di Chernobyl probabilmente oggi il mondo sarebbe molto più elettrico non dico al 100% sicuramente avremmo avuto un impulso sul nucleare dagli anni 80 in poi considerate voi avevamo quattro centrali nucleari in Italia eravamo quasi tra i primi e quindi sarebbe stato uno sviluppo ben diverso se non ci fosse stato Chernobyl qualcuno ha parlato di idrogeno ok l'idrogeno fondamentalmente si produce in cinque modi dal carbone direi che poi gli hanno dato diversi colori in funzione da dove viene l'idrogeno quindi macchina d'idrogeno sto parlando macchina d'idrogeno allora se l'idrogeno marrone deriva dal carbone direi che fare idrogeno dal carbone per poi far muovere le macchine non è assolutamente logico c'è un idrogeno grigio che diciamo viene fuori dal metano il metano produce CO2 quindi non si può produrre idrogeno senza avere CO2 c'è un modo per cercare di confinare questa CO2 emessa e viene fuori l'idrogeno blu ma non è tanto applicato poi ci sarebbe la soluzione con l'elettrolisi con energia elettrica proveniente dall'acqua perché le centrali nucleari producono anche di notte di notte non c'è consumo di energia o per lo meno non ce n'è tanta e quindi di notte produrre idrogeno per poi alimentare le macchine la soluzione che qualcuno pone se voi sentite qualcuno che vi dice guardate no l'idrogeno si può produrre da impianti fotovoltaici questo è come un professore mi cacciò dall'esame perché avevo sbagliato solo la grandezza come l'avevo scritto tipo vatte invece scrivo grande l'avevo scritto piccolo adesso non mi ricordo l'unità di misura mi cacciò il professore voi fate la stessa cosa se uno vi dice l'idrogeno può essere utilizzato quello prodotto dalle rinnovabili la discussione non è interessante non è interessante perché produrre energia elettrica da fotovoltaico che è un'energia nobile per produrre idrogeno per metterlo dentro una macchina non ci ha capito niente vabbè purtroppo qui ovviamente non è che ognuno fa il suo mestiere rispetto a tutto adesso parte la battuta che faccio qui con voi ma non è quella ovviamente la soluzione se io ho energia elettrica prodotta da fotovoltaico la metto direttamente nella macchina perché devo attraversare attraverso l'idrogeno se io ho 100 di energia elettrica vado a produrre l'idrogeno avrò 70 che il rendimento è circa il 70% dopo che vado a metterla sulla full celle perché l'idrogeno non è un motore a pistoni va dentro un sistema che produce energia elettrica quindi è sempre una macchina elettrica ok ma attualmente l'idrogeno costa molto non ci sono stazioni di rifornimento quindi l'idrogeno ad oggi non è una tecnologia su cui ci si crede molto se ne parla perché secondo me qualcuno non sa bene cosa dice e quindi ne parla senza avere competenze tecniche tra l'altro i costi ancora dei motori a full celle sono ancora quasi proibitivi non ha senso comprare una macchina a idrogeno adesso sui pullman magari qualche cistata ci sta lavorando perché il pullman fa un giro urbano e potrebbe avere anche magari un senso andiamo sulla sicurezza allora io sono vigile del fuoco e quindi intervengo sugli incidenti allora la prima riflessione che faccio con voi quando considerate un incidente sull'autostrada un incidente sull'autostrada di notte ok vigile del fuoco normalmente di notte ha delle brandine e quindi siamo in una situazione di riposo io faccio un'area amministrativa ma gli operativi ovviamente H24 quindi anche di notte immaginate chiamata centralino prima partenza incidente stradale ok alle 2 di notte alle 3 di notte da battiti cardiaci che passiamo da una cosa normale 60 65 70 incidente stradale schizzano su a 100 e passa l'adrenalina sale quindi il vigile del fuoco esce figuriamoci se si può così anche chi fa soccorso che va a recuperare la macchina ma così come il 118 così come la polizia tra l'altro soccorritori siamo tutti tutti perché se io ho un incidente sto andando con la mia macchina ho un incidente davanti io stesso divento soccorritore perché scendo se non sono coinvolto scendo dalla tua vettura e vado a vedere che è successo ok la prima domanda quindi che ci dobbiamo porre ma ok io scendo vado a cerco di salvare quella persona incidente che è stata coinvolta dall'incidente quella della tua vettura e leggo dietro ibrida o elettrica ma prendo la scossa cioè c'è stata una deformazione magari dalla parte anteriore qualche altra parte prendo la scossa stiamo parlando di 400 volt in corrente alternata le macchine a motore elettriche vanno a corrente alternata come la trifase che lavoriamo per le industrie quindi che significa che la prima domanda che ci dobbiamo porre è questa cioè il vigile del fuoco il soccorritore 118 chiunque sia va sul posto si deve preoccupare di questa situazione allora un po' sì però ci sono dei sistemi di protezione passiva e attiva che intervengono vediamo quali sono qui vabbè ho messo le foto vari soccorritori ma considerate che anche il meccanico che mette mano che mette mano alla macchina non lo può fare così senza sapere che cosa sta facendo quindi dovrà fare dei corsi poi vediamo come e quando allora questo argomento ovviamente riguarda tutti quindi da chi fa soccorso stradale a chi fa autodemolizione quindi è un campo a cui che riguarda tutti fondamentalmente allora innanzitutto facciamo un passo un attimo giusto così di informazione i componenti fondamentali di una macchina elettrica sono quattro batteria inverter motore elettrico e sistema di ricarica la batteria è considerata che sono delle pile tipo stileo quelle piccoline che sono state dentro casa sulla macchina elettrica ce ne possono essere anche 7000 dentro il pacco batteria questo sistema come fa a ricaricarsi tutti insieme preciso lo fa il BMS il sistema di gestione della batteria dà la possibilità di ricaricare equamente tutte le batterie quella che è a temperatura magari più alta lo evita ha tutto un controllo di sicurezza per la batteria il BMS dopodiché abbiamo l'invertere l'invertere è il cuore della macchina elettrica quando voi piggiate sulla macchina elettrica e piggiate sull'acceleratore aumenta la frequenza e quindi vi fa camminare di più vi dà maggiore potenza quindi l'invertere fa tutto ha 5 cavi arancioni perché 5 cavi l'invertere sta lì sopra il motore arriva positivo e negativo dalla batteria quindi 2 cavi dalla batteria esce con alternata trifase quindi i cavi normalmente che esce da un inverter che entrano sono 5 arancioni questo già ci dà indicazione che stiamo parlando di una macchina elettrica ok elettrica dico anche ibride insomma faccio veloce motore elettrico stiamo parlando di un motore collaudato da anni motore sincrono trifase e quindi ormai questo è un motore che non ha problemi fa milioni di chilometri non è questo il punto debole il punto debole è il sistema di ricarica il sistema di ricarica che in Italia così come all'estero vediamo un attimo sono 4 fondamentalmente i primi 2 potete ricaricarci poche cose bici, scooter poi quell'altro il modo 2 control box e si può fare a casa in un luogo pubblico centro commerciale autorimessa pubblica non potete ricaricare con i modi 1 e 2 che fondamentalmente è attaccare la spina al muro quella di casa ok questo col control box c'è un controllo di sicurezza in più ma fondamentalmente stiamo parlando di massimo 7 kg 7,5 kg ok dopodiché invece se vogliamo ricariche più veloci quindi in autostrada o in altre parti la wall box questo possiamo pure averla a casa in corrente alternata quindi che significa che io metto corrente alternata l'invertere me la commuta in corrente continua e vado a caricare la batteria la batteria lavora in corrente continua dopodiché abbiamo anche ricariche più veloci a corrente continua sopra 22 kW e stiamo parlando insomma di ricariche molto rapide che magari con mezz'ora un'ora forse ce riusciamo però sopra 22 kW bisogna vedere se la macchina lo consente cioè io posso avere pure una colonia che mi fornisce 100 kW ma se la batteria se il sistema di controllo mi dice no massimo 22 kW e vorrei caricare a 22 ok noi il vigile fuoco nel 2018 è uscito dalla circolare quindi chi è che dice che i primi due non possono essere i primi due sistemi non possono essere utilizzati in un luogo pubblico la circolare di vigile fuoco del 2018 linee guida per le stazioni infrastrutture per le ricariche e veicoli elettrici che fondamentalmente vi dice quello che vi ho detto dove potete fare la ricarica e altri sistemi di sicurezza cartellonistica di sicurezza eccetera quello che vi ho fatto vedere prima era solo per dirvi ci sono sistemi parallelo e serie nel sistema parallelo praticamente il motore a benzina e elettrico lavorano insieme quindi quando sentite parlare di parallelo ci sono due motori che danno la spinta alla macchina nel motore serie ibrido serie i motori lavorano praticamente il motore a benzina a combustione fornisce energia elettrica al motore elettrico alla batteria che poi a sua volta va a funzionare quindi è leggermente diverso questo è solo più per allora procedure qui siamo dal meccanico non siamo sull'incendio stradale dal meccanico ci sono le procedure quindi il meccanico deve essere formato sa conoscere le sue cose che deve fare e quindi ci sono quindi a distanza di sicurezza metterà una zona di controllo deve togliere il distacco del service plug il service plug è praticamente un interruttore che ogni casa costruttrice lo mette dove meglio crede quindi a volte sotto il sedile a volte dietro a volte davanti eccetera e quindi è il sistema da staccare il service plug è un interruttore fondamentalmente questo sta sotto vicino al cambio in questo tipo di macchina questo qui poi si fa una prova con il multimetro per vedere se c'è ancora tensione questa operazione la può fare solo una persona formata PES cioè una persona esperta incaricata dal dottore di lavoro quindi se voi avete dei dipendenti che non hanno fatto il corso PES non ci può mettere mano sulla macchina elettrica il gommista si cioè il gommista può togliere le gomme senza avere il corso PES ma se volete mettere mano su questi componenti bisogna essere formati per legge lo prevede il decreto 81 che la norma CEI 1127 ha recepito già da diversi anni per componenti elettrici generici solo persone PES con i guanti c'è tutta una serie di DTP quindi guanti fino a 1000 volts perché considerate ci sono alcune macchine che forniscono corrente a 800 volts tipo la Porsche quindi bisogna stare attenti e lo può fare solo personale formato quindi c'è il decreto 81 da rispettare ci sono le norme di prevenzione di incendi quindi se io vi dico per esempio l'officina di riparazione dei veicoli quindi meccanici oppure le autorimesse prima di poter adibire uno spazio a riparazione o sosta per la ricarica dei veicoli elettrici devono aggiornare il certificato di prevenzione di incendi probabilmente in molti casi senza grado di rischio quindi basta presentare la scia senza esame progetto adesso la sicurezza che vi dicevo prima in caso di incidente quindi torniamo la macchina è incidentata in autostrada o qualsiasi altra parte questo è un banalissimo circuito elettrico per farvi capire c'è la batteria lo switch c'è l'interruttore e poi il sistema la lampadina che potrebbe essere benissimo il nostro motore questo sistema per funzionare ha bisogno che l'interruttore sia chiuso quindi la batteria fa passare gli elettroni nel cavo fino alla lampadina torna indietro di numero pari di elettroni questa è la corrente elettrica questo significa che se rivedete nello schema questo schema qui lo ritrovate in quest'altro che è un sistema che noi abbiamo a casa vedete la linea blu quindi la corrente passa su quel cavo dal trasformatore vicino a casa va nella mia lavatrice domestica ok e sta lì e funziona se io prendo cioè se una fase quindi se un cavo si è rovinato è andato a finire sulla carcassa della lavatrice la parte esterna io ci metto la mano prendo la scossa un contatto indiretto perché? perché con lo scarico a terra dunque nella nostra abitazione c'è uno scarico a terra lo stesso scarico a terra sta nel trasformatore quando io metto mano sulla carcassa della lavatrice e una fase è andata a finire lì la corrente si chiude con me quindi braccio passa attraverso il corpo va a terra scarica e quindi fare questo giro qui ritorna sulla messa a terra del trasformatore quindi di numero pari di elettroni e lui ha una corrente quindi circolante normalmente interviene il differenziale che sente una differenza di corrente tra quella entrante e uscente e quindi mi stacca la corrente il differenziale se io vi faccio vedere adesso questo sistema qui ok quella non è la lavatrice ma è l'auto se io tolgo questo qui diventa un sistema IT isolato da terra quindi la mia macchina funziona così è isolata da terra con le gombe non c'ha uno scarico a terra ciò vuol dire che io toccando la carcassa se una fase delle tre fasi della trifase una è andata sulla carcassa nel caso di incidente io se vado a toccare la carrozzeria dell'auto non posso prendere la corrente perché non ho chiusura del circuito non passa sulla terra e non c'è il ritorno quindi la macchia non ha un cavo a terra quindi non c'è il circolo di corrente quindi io non posso prendere corrente questo sistema IT viene utilizzato per esempio nelle sale operatorie eccetera perché la macchina elettrica così come la sale operatoria non si può fermare perché magari c'è stato un un contatto con la carrozzeria che ancora non è così grave ok perché se state facendo un sorpasso state in galleria la macchina non è che si può fermare all'improvviso quindi è stato fatto concepito così dopodiché se questo è una fase se ci vanno due fasi sulla carrozzeria sì però a quel punto interviene un sistema magnetotermico che siccome è aumentato naturalmente un cortocircuito è aumentato la corrente va a chiudere il relay della batteria questo è un sistema di sicurezza passiva che ci garantisce che in qualche modo la macchina anche incidentata anche laddove un cavo fosse andato in contatto con la carrozzeria non prendiamo la scosta è un sistema di sicurezza passivo dopodiché per quanto riguarda la sicurezza per poter arrivano i vigili del fuoco arriva il soccorso di ruote stradale la norma di riferimento è la 11 la CEI dove ho fatto il corso la 1127 bisogna essere formati i PES lì dicono da diverse caratteristiche PES PAV PEC cioè sono persone esperte avvertite persona comune e PAY la persona incaricata dal datore di lavoro per far quel tipo di lavoro voi non potete mandare una persona anche formata a mettere mano sulla macchina elettrica lo dovete incaricare per il decreto 81 io parlo così perché faccio il mestiere di vigile del fuoco poi chiaramente ognuno fa come dire ne parlo insomma diciamo quindi ho fatto questo corso qui con la CEI e mi ha rilasciato questo attestato PES cioè per essere diciamo persona esperta dopodiché se è mandato una persona con caratteristiche per recuperare delle auto sarebbe bene che abbia anche un corso di addetto antincendio magari rischio elevato rischio elevato significa che abbia fatto l'esame da noi nei vigili del fuoco perché comunque potete dimostrare che avete mandato in strada su un incidente avete mandato personale che voi avete formato che in qualche modo è competente perché purtroppo il decreto 81 come il documento di valuzione dei rischi come tutta la formazione come il mondo si sta creando non tutto quello che spendete voi va realmente in sicurezza spesso volentieri va in carte e io lo vedo quando faccio i sopralluoghi di prevenzione di incendi molti documenti di valuzione dei rischi che voi fate o che le aziende sono obbligate a fare dove vanno a finire dentro il primo armadio questo lo dico per esperienza dentro un armadio con un po' di polvere e lì c'è un documento di valuzione dei rischi che ha fatto qualcuno che l'imprenditore non ha letto perché non ha tempo perché ci sono problemi perché ha aumentato il metano quindi l'imprenditore non va a leggere il documento di valuzione dei rischi ma neanche il piano di emergenza così come tante altre cose sulla sicurezza chi le legge quando succede qualcosa? Purtroppo il magistrato siccome mi è capitato di fare delle indagini per conto della procura quei documenti che voi avete chiuso ma io parlo con voi perché o voi davanti che noi in Italia teniamo chiusi da qualche parte in un cassetto ci sta bene ma mi hai detto basta quindi con i documenti sulla sicurezza che avete chiuso in un cassetto in un armadio purtroppo quando succede qualcosa quei documenti vengono presi il problema in Italia qual è? che si parla molto si scrive molto a noi ci piace molto scrivere se guardate la sostanza i documenti di valuzione dei rischi così come i piani di emergenza spesso e volentieri sono 300 pagine di cui interessanti forse 20 questo riguarda anche le amministrazioni pubbliche e tutti chi fa i piani di emergenza per la protezione civile nei comuni riguarda tutti riguarda l'Italia sistema quando c'è un incidente chiaramente noi non seguiamo il decreto 81 abbiamo le nostre procedure operative standard quindi parliamo di un manuale operativo purtroppo anche il nostro è tra i 400 pagine quindi bisogna un po' mettersi lì questo però è il mio lavoro considerate solo che per esempio gli strumenti per aprire un'autovettura quindi per tagliare il tetto negli ultimi anni siamo passati da 300 abbiamo raddoppiato la pressione da 300 50 a 700 circa che significa che i montanti c'è cambiato tutto la tecnologia della macchina è completamente cambiata tutti i sistemi di sicurezza sono garantiti per tutte le tipologie di macchine non è che la macchina che costa 10.000 euro è meno sicura della macchina che costa 40.000 euro non è così cioè tutte le macchine per legge escono con i stessi criteri di sicurezza l'ABS ormai c'era tutte le macchine i sistemi di sicurezza primaria quindi quelli che intervengono durante la guida c'era quello qualcosa magari le macchine più piccole non ce l'hanno tipo magari se uno si addormenta gli occhi chiusi eccetera quello di dare allarme eccetera quello qualcosa di meno ma per la sicurezza attiva che interviene in caso di incidente siamo tutti uguali ok poi dopo chiaramente ogni macchina ha un'impiantistica elettrica molto importante quindi bisogna capire anche dove sono tutti gli impianti in caso di emergenza quindi io vado sull'incidente quindi ho già la consapevolezza come vigile del fuoco che quella macchina dovrebbe essere già in sicurezza perché la sicurezza che vi ho detto prima è la sicurezza passiva ma il vigile del fuoco così come voi cosa deve fare? beh innanzitutto spegnere il motore spegnere il motore con start e stop la chiave eccetera ricordate di portare via la chiave perché se no con alcune macchine si può anche riaccendere quindi la sicurezza che avete staccato avete spento la macchina avete staccato il service plug quindi quell'intruttore che vi dicevo prima avete scollegato la batteria a 12 volts la macchina è in sicurezza adesso non servono magari tutte e tre le operazioni ma già se è staccata la batteria a 12 volts il pacco batterie che almenta a 400 volts è già staccato oppure anche il service plug o se avete spento il quadro i tre relay che escono dal pacco batterie i due relay che escono dal pacco batterie hanno staccato poi ci sono anche altri sistemi quindi c'è un cavo di sicurezza un connettore che si può tagliare ci sono dei fusibili per l'alta tensione quindi il soccurritore queste cose le deve conoscere ok il BMS ve l'ho detto poi c'è il magneto termico ci sono per esempio la Bosch ha inventato i fili che escono dalla batteria ci ha messo tipo delle cariche tipo airbag qualcosa che esplode e va a staccare in caso di incidente va a rompere i fili di collegamento che escono dalla batteria siamo quasi alla fine allora riconsegna del veicolo incidentato qui c'è un mondo perché si è aperto un aspetto sulla responsabilità noi vigili del fuoco quando andiamo sull'intervento c'è stato un incidente macchina elettrica a un certo punto questa macchina la dobbiamo riconsegnare al caro Attrezzi qualcuno sarà da portare via che non siamo noi l'amministrazione cosa ha detto benissimo voi mettete in sicurezza la tua vettura avete staccato la batteria 12 volte avete magari tolto anche il service plug eccetera poi la macchina la dovete consegnare al caro Attrezzi fatevi firmare una malleva cioè un verbale di consegna dove io dico vigili del fuoco dico a chi viene l'autista e guarda io la macchina l'ho messa in sicurezza ma se riprende se prende fuoco successivamente ci sono due problemi non è responsabilità di vigili del fuoco e qui finisce la nostra responsabilità purtroppo è scomoda questa situazione ma non potrebbe essere diversamente perché io consegno una macchina incidentata dove sono stati dei problemi ma non posso essere responsabile di quello che avviene dopo quindi c'è un verbale di consegna che io ti sto dicendo guarda che la macchina è incidentata non la parcheggiare poi ti do anche dei consigli sul verbale non la parcheggiare in una torrimessa chiusa mettila all'aperto non la mettere vicino ad altre auto perché c'è il rischio che le macchine elettriche incidentate possano prendere fuoco anche successivamente specialmente se la batteria è stata danneggiata quindi non la mettere insieme ad altre macchine mettila un po' più distante crea un'aria apposta dove poi io ti vengo a controllare per la prevenzione di incendi me la metti in un'aria dedicata magari ancora non è che serve ettari perché le macchine elettriche ancora non sono tantissime in circolazione quindi se uno ha lo spazio per mettere 10 auto vetture elettriche per ora va bene in questo periodo in quest'anno poi si vedrà l'evoluzione però 10 macchine signate che una macchina distante in una dall'altra ci sarà circa 6 metri ok creerò dopo facciamo subito prego no cioè io ti consegno la macchina ma non abbiamo una norma per dirti quale caratteristica tu devi avere per le macchine incidentate ci sono le norme il nuovo codice perché se tu hai un deposito di auto rientri in un'attività di vigile del fuoco sopra 300 metri quadri non c'è verticale però ci sono le norme del nuovo codice che ti dicono benissimo tu hai una macchina elettrica che comunque potrebbe essere soggetta a sta al tecnico sta al tecnico che passa anche su un esame progetto che votiamo noi insieme insomma certo sono cose nuove allora la macchina elettrica è anche una sfida cioè se voi mi dite benissimo è pericolosa la macchina elettrica è il mondo che va avanti per noi è una sfida cioè io non mi tiro indietro per il rischio che la macchina elettrica sia pericolosa perché il GPL ti dico è molto più pericoloso cioè le macchine no quindi noi facciamo tanti di incidenti di tipologie di rischio eccetera non è la macchina elettrica che mi mette paura come vigile del fuoco non è quello mi mette più preoccupazione tutto l'aspetto ambientale che vi ho detto all'inizio quindi adesso in questi anni chiaramente l'attività non è l'attività soggetta però 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 se tu mi fai l'incendio che mi coinvolge altre cose eccetera sei colpevole per il codice civile quindi te becco lo stesso non ti preoccupare ciao consigliare 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 di unità tenti per fare un'attività che non è 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 l'esame non ci non è più consigli di unità quindi l'esame l'esame vincere forse rischio altro pubblicato allora adesso per l'ingegio dovete avere gli attestati di formazione però secondo me se mandate una persona a recuperare una macchina elettrica eccetera è bene che abbia una formazione adeguata con rischio medio rischio elevato ti dice io più di questo non ho quello del massimo hai fatto un esame di vigile del fuoco so che la persona è formata più che altro più di quello non c'è non è che devi avere vigile del fuoco tu ti sei messo in sicurezza adesso tanto tra un corso medio rischio medio che sono 4 ore e sono 16 senti adesso magari non tutti però sai che quello che esce di più glielo fai fare l'altro magari un rischio medio ecco il rischio il corso pesce è obbligatorio perché se no non ci può mettere mano ok grazie fatemi domande così mi permettete anche di di dire qualcosa di mio insomma nel caso di incendio è un po' più complicato la macchina elettrica che si incendia si spegne come una macchina normale il problema dov'è se va l'incendio il fiamme vanno a coinvolgere la batteria il pacco batteria allora il pacco batteria non è un pacco e basta dentro ci sono una serie di sicurezze il BMS è veramente molto protetto normalmente sta in una posizione sotto il pianale quindi è protetto anche per le deformazioni però se l'incendio dura un po' il pacco batteria viene coinvolto a quel punto vengono emesse alcune sostanze tra cui l'acido fluoridrico quindi dobbiamo avere i nostri DP si interviene si spegne l'incendio lo spegniamo la macchina e dopo mezz'ora un'ora la macchina si riaccende quindi purtroppo l'incendio che ha coinvolto le batterie spegnerlo completamente ci vuole diverse ore e ci vuole pure tanta acqua acqua non serve qualcos'altro stiamo parlando di classe B incendio di classe B perché c'è un liquido infiammabile considerato così quindi classe A sono i solidi B liquidi C gassosi quindi per noi è classe B quindi possiamo usare anche la schiuma possiamo usare anche le polveri ok il problema è ma se il pacco batterie si sta bruciando cioè le batterie che stanno lì dentro bruciano come ci si arriva a spegnerlo non ci si arriva alcune macchine alcune case costruttrici hanno un ingresso per l'acqua quindi quel pacco batterie può essere riempito d'acqua a quel punto lo posso spegnere in effetti le batterie ma la difficoltà è anche trovare il punto di innesco per il tubo per andare a riempire il pacco batterie e quindi con la macchina che capite bene che sta bruciando come vado a spegnere come vado a questo ancora non è proprio facilissimo quindi se no l'intervento qual è? per noi è un intervento difensivo si dice guardo lo scenario se tutto è a posto spengo la macchina per 3-4 ore il problema se è in autostrada blocco l'autostrada per 3-4 ore non è propriamente poco e devo usare una grande quantità di acqua l'alternativa che si sta studiando è appunto dei contenere dove tanto la macchina è da buttare la macchina sta bruciando la devo buttare la prendo magari la spengo un attimo la prendo con un ragno con qualcosa e la immergo dentro un contenitore apposta questo contenitore poi lo immergo d'acqua e qualcuno lo porta via non noi quindi qualcuno se lo porta via e ci avrà dentro il suo deposito questo contenitore con una macchina piena cioè con un contenitore pieno d'acqua e dentro la macchina per noi l'intervento finisce chiaramente sempre come prima finisce quando noi consegniamo la macchina l'autovettura al a chi viene a caricarla insomma noi facciamo questo mestiere quindi a un certo punto la nostra responsabilità deve finire perché se no rimaniamo attivi per parecchio tempo prego prego sì con le batterie a litio sì sì perché c'è il fenomeno del thermal runaway cioè la temperatura apparentemente a sopra i 65 gradi la batteria emette da solo calore quindi tu la spendono quella temperatura viene emesso ossigeno e quindi si autoalimenta ecco perché è difficile spegnere e poi quello è una conseguenza degli acidi che stanno dentro la batteria viene fuori l'acido fluorico vabbè quello è male minore perché alla fine noi ci mettiamo di IP stiamo a distanza alla fine quello è un acido come tanti altri andrà un'altra cosa che va in atmosfera insomma quindi chi mi devo dire quindi quando mandate con Roberto avevamo con Capocasa abbiamo ragionato anche su dei sistemi tipo container aperti cioè mettere due metro la macchina ok potrei fare un deposito e metterci dei pannelli rei anche 120 in realtà c'è una norma che riguarda le macchine elettriche intese come trasformatori eccetera che basterebbe rei 60 per separare le macchine elettriche intese in generale però comunque mi creano dei container messi uno vicino all'altro con dei pannelli sandwich rei 120 teoricamente la norma ancora non c'è quella circolare che diceva prima il collega però noi vigili fuoco potremmo anche accettare una selezione del genere va fatto un esame progetto va studiato magari con un impianto di rilevazione fumi con una termocamera che sta lì e che se questa macchina riprende fuoco magari ci dà un allarme quindi dei sistemi chiaramente ripeto la scommessa qual è avere una tecnologia sempre nuova in cambiamento e avere anche delle norme che poi seguiranno queste tecnologie chiaramente chiaramente no no questa è la sosta fissa dentro un deposito del eh ma chi ce l'hanno il problema è che ancora non c'era nessuno quel container quindi la carichi sulle carottrezzi beh l'azoto è comunque utilizzato come un gas inerte come la CO2 alla fine guarda hanno fatto ho letto dei studi tra l'altro su una ricerca fatta da vigili del fuoco insieme all'Enea ed è stato provato questo tipo di sostanze eccetera sembrerebbe che non abbiano molta efficacia cioè quelle sostanze che si usano nelle biblioteche che si usano cioè automatiche in realtà sembrerebbe che non abbiano grande successo ok esistono dei istintori per esempio adesso vabbè te lo dico dopo un altro tipo di istintore adesso quando andate cioè quando mandate qualcuno a prendere una macchina sappiate che può ritornare in officina con un verbale di manleva con di responsabilità il kit minimo vabbè le macchine elettriche non possono essere trainate con una macchina normale perché il motore potrebbe ricaricare e avviarsi da solo insomma da energia elettrica però un minimo di diciamo di tp di guanti ci sono delle applicazioni che ci danno immediata informazione dove sono non so dove sta il service plug piuttosto che altri sistemi di sicurezza gli istintori un minimo di kit diciamo e si va a fare il soccorso come lo avete sempre fatto la prevenzione di incendi lo dicevo ah per l'ultima slide per il trasporto e il deposito di batterie al litio questo è un grande problema tra l'altro il trasporto questo pochissimi lo sanno il trasporto di batterie al litio va in ADR cioè come una merce pericolosa ok a noi per noi questo è un problema per i depositi sopra mille metri quadri che sono attività soggette attività anche di demolizioni le batterie dove le mettete cioè dove le mettiamo questo è un altro problema perché c'è tutta un'altra linea guida qui non so se l'ho riportata non è che potete mettere dovunque sui bancali dieci bancali uno sopra l'altro c'è tutta una normativa una linea guida da seguire quindi massimo sei metri il magazzino deve essere areato c'è una serie di normative da rispettare quindi in ADR ecco questo era il vermiculite il tipo di istintore che si potrebbe che qualcuno dice che si può utilizzare sulle batterie a litio vermiculite è un minerale insomma ci sono stati già casi di incendi importanti su navi che trasportavano le batterie a litio e in effetti la difficoltà è lo spegnimento lascerei a voi 5-10 minuti per le domande e vi ringrazio per l'attenzione prego con il microfono perché se no non si sente da casa voglio fare solo una domanda le nuove autorizzazioni che noi andiamo andiamo a rinnovare della prevenzione di incendi cosa comporta per noi autodemolitori nel futuro cioè dovremmo adeguarci alla nuova alle auto elettriche dovremmo avere delle aree di quarantena dobbiamo avere dei depositi particolari per lo stoccaggio delle batterie degli armadi che cosa e poi in caso di incendio di una macchina elettrica nel nostro impianto l'acqua che noi come abbiamo detto ci vuole molta acqua quell'acqua va reciclata e va smaltita da un'altra parte o può andare direttamente dentro alle nostre vasche che chi ha depuratori poi può portarle via con i depuratori grazie roberto innanzitutto sono investimenti da fare quindi c'è ci sono c'è un cambiamento e quindi le aziende devono fare degli investimenti l'autodemolizione è un'attività soggetto a controllo di vigili del fuoco quindi tu praticamente come tu insomma vi parlo in maniera generica il titolare dovrà presentare secondo me a questo punto un esame progetto a vigili del fuoco dove il tecnico scrive benissimo io ho questa autodemolizione autorizzata con il certificato di prevenzione di incendi vado a fare delle modifiche mi vado a creare un'area di stoccaggio per le macchine incendiate elettriche vado a creare un'area di stoccaggio per le batterie quindi come tu hai nella tua attività un'area dedicata per per esempio dove le macchine sono in ingresso prima di essere bonificate hai un'area per l'olio per i pneumatici eccetera dovrai costituire un'area dedicata per la sosta temporanea dei veicoli elettrici incidentati con certi criteri di sicurezza da ragionare insieme al tecnico poi condiviso con i vigili del fuoco poi dipende se le batterie le metti a chiuso se le metti all'aperto ci sono le linee guida che ti dicono a livello tecnico quali sono i criteri per esempio se uno metti a chiuso magari lì è una linea guida quindi però dice suggerito impianto splinker il problema è che l'impianto splinker costa quindi però un sistema di rilevazione di fumo certo se hai un deposito piccolino anche la quantità è importante vicino cosa hai cioè io metto un deposito qui di batterie a litio poi non metto metto una parete in carta o un cartongesso molto leggero di là c'ho l'olio e la benzina eccetera non va bene ti dirò da vigere il fuoco se il tecnico la presenta così ovviamente gliela bocciamo però adesso fa parte no scherzo diamo diamo delle prescrizioni col tecnico ci si parla ci si ragiona ti dirò guarda qui hai le batterie di là è il deposito di oli esausti qui mettemici una parete rei 120 fammi una compartimentazione 120 è sufficiente vabbè i vigili del fuoco interverranno in due ore quindi in qualche modo riusciremo a spegnere questo incendio o a tenere sotto controllo quindi metterai il riluatore di fumo che ti danno un allarme la compartimentazione più o meno quelli che sono i criteri standard della prevenzione di incendi quindi insieme al tecnico questo questo diciamo aggravio di rischio va studiato valutato dopodiché vanno a prese le contromisure quali sono le contromisure c'è il nuovo codice che è uscito e che ti dice guarda devi mettere questo inizia a mettere una serie di protezioni attive e passive che mi garantiscono che l'incendio quantomeno non si propaghi per tutta l'attività quindi ci saranno dei momenti di adeguamento a quella che è la normativa alle linee guida però ti dico come ho detto prima questi passi in realtà non è che mi sconvolgono man mano immagino che le ditte si adeguano gli investimenti ci sono magari non sono così se uno si sa muovere anche perché se un'attività è già norma per la prevenzione di incendi le modifiche in genere sono meno costose della fase di adeguamento iniziale credo che quindi si possano affrontare questo tipo di tematiche mi permetto perché mi ha scritto un collega che ci segue da il lontano Friuli Venezia Giulia sono contento c'è gente da lontano e al di là quindi mi sembra ringrazio ancora Regione Ambiente per il collegamento che sta facendo e sulla parte dei della quarantena mi scrive anche scherzosamente ma figuriamoci tra paesaggistica provincia o città metropolitana per chi come me vive la realtà della città metropolitana Regione e poi i vigili del fuoco se si mettono d'accordo e mi accettano di mettere cubatura in più all'interno dell'impianto perché giustamente poi molti di noi vivono degli impianti che hanno dovuto aumentare di cubatura perché chi ha portato la pressa poi qualcuno gli ha ordinato di farla e di coprirla poi il magazzino ricambi perché i ricambi devono essere stoccati poi le isole di bonifica coperte e quant'altro la slide che te la metto così posso spiegarlo ecco perfetto questo sarebbe importante innanzitutto e questo è anche perché ci mettiamo a parlare con le istituzioni ma soprattutto con la parte politica è sempre più facile comunicare molte volte il problema di noi imprenditori e correga se sbaglio è parlare con i tecnici delle istituzioni perché poi abbiamo la vera problematica che non sempre vivono la realtà imprenditoriale molte volte ci rispondono con anche o investimenti incredibili roba che non dovremmo essere al di là di capocasa che è un assist degli autodemonitori gli altri hanno qualche difficoltà degli investimenti anche perché io da quando sono entrato in azienda che continuo a vedere investimenti ogni anno ci diciamo basta quest'anno è un anno stiamo calvi mai visto il 31 dicembre lo diciamo già dal 2 gennaio quando riapriamo i cancelli degli impianti già stiamo investendo molte volte per noi perché investiamo sui carri nuovi e quant'altro dove ti brucia un po' è investire anche su cose che poi non è che siano state così utili poi non lo metti in dubbio però quando in prima battuta abbiamo avuto sia il piano di emergenza sia il piano di emergenza esterno interno ecco quello è l'invito che faccio sempre ai colleghi di non accettare il primo che arriva di sentire anche l'associazione sia che si è iscritti all'associazione sia che non si è voluto procedere all'iscrizione però una chiamata diceva una vecchia pubblicità della SIP allunga la vita e soprattutto continua a tenere riempito il portafoglio visto anche il momento di magra tra il ferro che crolla e altre situazioni però quello che ci tengo è e poi adesso lei mi risponderà giustamente con la slide ma veramente al di là del demolitore che deve essere pronto all'investimento e come stiamo vedendo sono anche investimenti importanti perché tra aree investimenti che anche comportano e questo è una critica che faccio alla categoria a una nuova idea di fare l'autodemolitore perché questi costi lo stoccaggio che mi porta anche ad avere una riduzione del numero di veicoli che potrò tenere in magazzino auguri a farsi ancora la gara a chi arricchisce il concessionario forse una riflessione anche nostra sulla follia dell'acquisto dei veicoli da parte del concessionario dovremmo farla un po' tutti perché qua non si parla più di piccoli investimenti ma di grandi investimenti investimenti che poi portano ribadisco a una riduzione del parco auto che posso tenere perché hai voglia di avere i cantilevri ma qualche cantilevri lo dovrò togliere per avere lo stoccaggio dei veicoli elettrici oggi sono uno all'anno ma domani quindi sono tutti anche riflessioni nostre interne che io spero di poter fare noi da settembre rifaremo fino e lo anticipo a Ecomondo dove saremo presenti con due stand il nostro solito storico e l'altro insieme a radio auto dei monitori che ci ospiterà nello stand di Pressable ma detto questo l'idea è ma siamo noi solo pronti ma anche le istituzioni sono pronte a capire che bisogna anche autorizzare velocemente queste nuove novellazioni non si può pensare che io possa fare anche un investimento del genere avendo un'autorizzazione annuale perché la provincia me la continua a rinnovare annualmente non è il problema delle marche ma abbiamo diversi problemi in tutta Italia di continui rinnovi escludendo la questione Roma dove c'è l'amico Fulvio Bottone di fondo nostro vicepresidente però è una problematica importante non posso pensare di aspettare se io parlo come realtà milanese aspetto due anni e mezzo per l'aumento di una nuova pressa qua non posso aspettare due anni e mezzo secondo me quindi è anche l'istituzione che deve lavorare insieme ne racconto questa mi hanno detto facciamo di un collega facciamo una conferenza di servizi a sincrona ottimo dato che quindi la commissione non ci si incontra fisicamente dovrebbe anche stare anche più veloce si dà il termine della consegna dei documenti ma quando riguarda il cittadino il termine è perentorio quando il termine è l'istituzione il termine è ordinatorio guarda non fa niente lascia stare la slide non ti preoccupare il termine è ordinatorio e quindi la conferenza di servizi che per legge deve essere un modo per velocizzare le cose quindi dare un termine per incontrarsi adesso il termine ordinatorio ti porta ad avere conferenze di servizio che non terminano più e questo è il problema che sentiamo ogni giorno qua i colleghi possono confermare di queste situazioni scusate se mi sono dilungato però sono problemi che toccano poi la carne perché noi ogni giorno io vedo questi impianti di centri di raccolta che ogni giorno investono ogni giorno veramente ci mettono il sangue perché poi il nostro è tutto fuori che un lavoro semplice però molte volte lo scontro è questo e su un tema che tocca quindi anche come ha ripetuto diverse volte la sicurezza secondo me non si può attendere troppo anche le lungaggine della PA grazie grazie della domanda guarda allora per quanto riguarda la prevenzione di incendi e la sicurezza diciamo che le normative che ci sono ad oggi in qualche modo garantiscono che chi ha intenzione di adeguarsi a queste nuove tecnologie ce la possa fare perché comunque i tecnici sanno che c'è una norma il nuovo codice di prevenzione di incendi così anche il del 81 che sono dei strumenti utili per poter adeguare la propria attività a diverse situazioni quindi le normative ci sono forse anche tante e troppo complesse i problemi sono troppo complesse questo ti rispondo da funzionario di vigile del fuoco se mi chiedi il mio parere da cittadino ti dico stiamo vivendo un momento particolare particolarmente difficile su tutti i settori io ho la fortuna per il lavoro che faccio di entrare nella maggior parte delle aziende e faccio i controlli quando faccio il controllo sono curioso parlo con l'imprenditore e normalmente prendiamo un po' di confidenza quindi mi dicono i vari problemi che ce ne sono i problemi ce ne sono molti ce ne sono tantissimi oggi avere un'attività è una sfida perché hai norme che ti cambiano norme nuove tecnologie nuove anzi come diceva il sindaco forse prima e io condivido molto quel messaggio quel treno che sta andando troppo veloce verso non si sa bene dove forse un attimino dobbiamo respirare perché qui prima abbiamo affrontato l'emergenza covid poi la guerra poi l'emergenza siccità poi siamo un paese che viviamo di bonus viviamo di emergenze oh ragazzi qua bisogna avere pure una vita serena qui non c'è più la vita serena qui un imprenditore non vive più una vita serena perché in qualsiasi momento tra l'altro anche il territorio 81 stesso qualsiasi cosa che succede l'imprenditore è colui che risponde sempre e comunque quindi ci sono delle normative non sono così chiare sono troppo complesse l'imprenditore non riesce a percepirle a farle proprie e quindi si crea quello che dico è un distacco tra la normativa cioè tra l'imprenditore che vuole aprire un'azienda e le normative quindi è una situazione molto complessa parliamo di cambiamento epocale dell'Italia a livello energetico non si sa bene con chi cioè io ho letto bene il piano per la transizione energetica italiano che prevede investimenti su tutto dalla riqualificazione del PO a tre in alta velocità aerei elettrici macchine elettriche idrogeno fusione nucleare cioè c'è un piano energetico non so se qualcuno di voi l'ha letto quindi il piano per la transizione energetica è da paura cioè veramente io quando l'ho letto con 80 miliardi pensate di fare tutto questo non è concepibile avere investire su tutto investire su tutto significa sperare di dare un po' di soldi a tutti senza avere un obiettivo ed è quello che stiamo facendo oggi ma si può parlare di macchine elettriche quando ancora non abbiamo le strutture che producono energia elettrica c'è una volta quando si diceva ok sviluppiamo quella zona per sviluppare una zona che aveva difficoltà si creavano le arterie stradali quindi ferrovie strade eccetera e poi si investivano soldi per creare l'azienda lì oggi si fa il contrario prima si apre l'azienda e poi si ricordano sì ma e la merce lì come ci viaggia che abbiamo ancora strade vecchissime quindi c'è un mondo in questo periodo se ne ho negli ultimi anni ho la sensazione che veramente abbiamo delle difficoltà di qualcuno dice andiamo da questa parte poi cambiamo direzione eccetera e in questo le aziende ci sono in mezzo ci sono in mezzo con aumenti di energia si parla di sicurezza quindi perché succede purtroppo incidenti sul lavoro quindi che fanno formazione ho capito ve lo dico da da Roberto Paoletti cioè non pensiate qualcuno pensa che con la formazione investimenti eccetera il rischio sul lavoro si azzera non ci siano più incidenti sul lavoro cioè se qualcuno pensa così può stare tranquillamente a casa perché non ha mai vissuto l'azienda non ha c'è gente che scrive le norme che parla di sicurezza sul lavoro di prevenzione di tutto quello che volete non ha mai vissuto né le aziende né il soccorso tecnico urgente e quindi escono norme che poi fanno spendere dei soldi e poi l'imprenditore dice ma scusa io ho speso questi soldi ma va a toccare non è cambiato molto quindi c'è molto da rivedere da studiare da lavorare è un argomento mi portate su questo campo esprimo anche la mia idea che forse non è tanto dica dica se ho risposto sì 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 c'è Antonino Contartese ingegnere buongiorno allora io ho ascoltato il suo intervento no no volevo solo focalizzare una cosa si parla tanto di soccorso di incidente stradale di autodemolitori perché comunque come deposito dopo ma quando la macchina arriva in un concessionario e magari sta mesi e mesi lì in conto vendita e beh non mi trovo la categoria del concessionario qui non mi trovo nella sua slave la voce il piano di incendi non prevede che anche i concessionari debbono avere un qualcosa ma solo gli autodemolitori devono porsi queste domande e iniziare a farsi questi investimenti molto onorosi il venditore io vado a comprare io utente vado a comprare una macchina elettrica da un concessionario e beh ma il concessionario non c'ha l'obbligo di oppure saranno anche loro soggetti a queste cose l'incendio può succedere all'autodemolitore da una macchina incidentata ma anche al concessionario di turno che vende auto eppure in queste categorie molte volte non vengono menzionati è un po' quello staccaggio esatto giusto è solo questa la mia domanda grazie guarda ti ringrazio tantissimo della domanda e ti dico anche i concessionari sono soggetti alla prevenzione di incendi perché normalmente il salone supera i 300 metri quadri quindi sono attività 75 se non sbaglio esposizione e vende dei veicoli quindi sopra i 300 metri quadri sono soggetti al rilascio ad ottenere il certificato di prevenzione di incendi la norma circolare prevede che appunto in quella situazione se tu hai macchine elettriche diventi un deposito di batterie di batterie poi tra l'altro se ce le hai cariche ancora peggio comunque diventi un deposito di batterie anche se tu di batterie magari ce ne hai solo 10 di macchine elettriche 10-15 insomma quello che sia però scome superi i 300 metri quadri sei soggetto controllo di vigile del fuoco hai il tuo deposito di autoveicoli e quindi in quel caso rientri come deposito di batterie di pacchi batterie quindi significa che ti devi adeguare quindi anche i concessionari si devono adeguare a quella circolare per i depositi di batterie quindi rientra guarda la prevenzione di incendi ormai ci rientra più o meno tutto quindi difficilmente che qualcuno le sente quindi lo becchiamo lo stesso prego prego dottore questa è una curiosità una domanda non addetto ai lavori come sono state spinte l'acquisto delle macchine elettriche o incentive apparentemente anche altre apparentemente ecco apparentemente non è stato previsto dal punto di vista ministeriale anche di un eventuale incentivo mutuo a tasso zero per l'auto dei miliotori per fare l'adeguamento urgente di quello che parlava lei in modo da incentivarli a farlo perché se no la spesa è altissima adesso però mi stimoli una risposta che non dovrei dare allora ho l'impressione se tu guardi ti dicevo all'inizio macchine micro e mild hybrid che in realtà sono macchine a benzina e vengono incentivate per l'acquisto perché per le emissioni di CO2 vengono incentivate all'acquisto quindi lo Stato sta incentivando l'acquisto in realtà la macchina mild hybrid è una macchina a benzina ho l'impressione che dietro non ci sia solo ambiente ma ci sia anche l'idea di far vendere le macchine specialmente da parte dell'Europa ci sia la volontà di incentivare l'acquisto delle macchine perché la macchina mild non va a risolvere il problema ambientale e neanche tanto le fulle però ne possiamo parlare le plug-in forse non ve l'ho detto le plug-in sono macchine sempre che si possono ricaricare con il cavo quindi la domanda è tutto il mondo che c'è dietro alle macchine tu consideri il meccanico che ha una certa età che ha fatto fino adesso il motore a scoppio come fa a riciclarsi sulla macchina elettrica non è facile per la gente riformarsi diciamo magari uno ha 50 anni e passo per fare fatica più che altro anche a livello proprio di motivazione passare a tutta un'altra tecnologia quindi tutto l'indotto il benzinaio se oggi fossero tutte macchine elettriche i benzinaio che fine fanno ma non sto dicendo che non bisogna andare in quella direzione lì sì bisogna andarci con un certo modo ragionando perché ci sono i meccanici i benzinai ci sono le accise noi prendiamo miliardi delle accise tramite i carburanti i bolli auto tutto questo vengono eliminati quindi c'è una serie di problematiche da affrontare però se mi dici quella domanda lì io ti rispondo ho l'impressione che in certi contesti come nel in un concetto che avevo trasmesso avevo passato lì nella slide purtroppo molto troppo di incentivi fatti vanno in speculazione ed è questo il problema del mondo che molte cose che dovrebbero andare per l'ambiente perdiamo pezzi troppo importanti di denaro per così per situazioni che a livello ambientale non hanno un grandissimo beneficio e quindi probabilmente per ora non ci sono incentivi per chi deve adeguarsi per la prevenzione di incentivi considera c'è qualcosa per gli albergatori per gli albergatori che devono mettere a posto la loro struttura ci sono degli incentivi non vi considerano però gli albergatori sono molto forti considerate che sono dal 96 che si devono mettere a posto gli albergatori ancora riescono ad avere delle proroghe importanti scusate io sono un giornalista e mi permetto di dire qualcosa sulla macchina elettrica perché sono un possessore di un'auto full electric mi parrebbe che uscire da questo convegno voglia dire che si è contro l'elettrico anche se lei dice per carità non stiamo dicendo che non bisogna andare lì allora intanto consiglio lei di far cambiare l'auto a sua moglie perché io non faccio pubblicità è una macchina a noleggio le prendo sempre a noleggio ho un Opel Corsa elettrica che è fantastica un'esperienza c'erano dei testimoni con me avendo un'autonomia di ancora 112 km facendo la salaria e tornando da San Benedetto ad Ascoli sono arrivato ad Ascoli con 100 km di autonomia significa che ho fatto 35 km facendone solo 12 questo con una macchina a benzina o diesel non avviene perché l'auto elettrica rispettando i limiti frenando e rallentando ricarica la stessa cosa mi è successa andando a Castelluccio con 330 km mia moglie erano i primi giorni preoccupatissima perché le mogli poi sono importanti nella vita è elettrica è elettrica full electric sono arrivato full electric cioè è completamente elettrica non è ibrida sì però si dice full per evitare ok quindi a Castelluccio arrivo da 330 con 140 km di autonomia perché è un mondo completamente diverso questo e quindi mia moglie è preoccupatissima ora come facciamo qui non ci sono le colonnine eccetera è la prima settimana d'ansia riscendendo rifacendo la strada intanto salendo spegnendo la radio e non ascoltare nessun rumore vi assicuro che è una cosa irripetibile solo in bicicletta potreste avere questo tipo di sensazioni ora riscendendo io ho recuperato 100 km sono arrivato a 240 quindi in realtà il mio consumo non c'è stato e la preoccupazione di mia moglie da quel momento in poi è scemata per quanto riguarda le ricariche la Opel Corsa che ho ha 330 km di autonomia e ha diversi modi di guida utilizzando l'Eco B si ha una minore climatizzazione ma è sufficiente per quello che interessa a noi però i tipi di consumi sono del tutto normali e ora le colonie ad Ascoli entro luglio si inaugureranno allo stadio due colonnine da 150 kW caricano contemporaneamente quattro auto elettriche da Conad c'è una trio con 75 kW io la mia la ricarico a 60 kW con la presa CS2 combo quindi in realtà la tecnologia le ho fatto anche un'altra domanda prima sul fatto del litio si produce acido floridico c'è una start up israeliana la Stordot che sta stressando negli Stati Uniti forse su auto Tesla una batteria con 500 km di autonomia ma non ha più il litio dentro ha nanotecnologie e componenti organici la stanno stressando solo per la temperatura al massimo sono arrivati ad avere una temperatura di 33 gradi per quella batteria sotto stress questa si ricarica in 5 minuti dimenticavo di dire i cinesi hanno una ricarica per 1000 km di 8 minuti quindi è vero cambiando un mondo perché io la mia per avere l'80% di autonomia impiego 20 minuti con una fast quindi in realtà vorrei dire che sua moglie può comprare una macchina elettrica perché è eccezionale le assicuro soprattutto quando arriva la fattura io l'utilizzo a scopo aziendale c'è scritto quanta anidride carbonica e non sono un ambientalista perché ho sposato da sempre il metodo scientifico quindi quanta anidride carbonica non ho emesso alla domanda di Cappelli che diceva ma questa transizione ecologica ma siamo obbligati a farla perché quello che abbiamo oggi per quanto riguarda la siccità deriva a cascata dallo scioglimento degli acci l'abbiamo provocate noi queste cose quindi dobbiamo metterci di impegno sono d'accordo con lei sulla produzione energetica che invece è carente quindi lì ci dobbiamo muovere in tutti i sensi perché ritengo come lei che in questo momento non ci sia la strada giusta per quanto riguarda invece un'altra notizia di oggi è che la Jaguar ha detto che nel 2025 non produrrà più macchine termiche quindi anticipando l'Europa che pone al 2035 la preoccupazione dei manutentori abbiamo 12 anni per cambiare sistema abbiamo 12 anni per cambiare sistema 12 anni in un mondo come questo che va così veloce possono dire tantissimo insomma c'è tempo per modificare e comunque le macchine elettriche avranno sospensioni avranno gomme avranno tutto quello che c'è e costruire un motore elettrico è sempre costruire un motore grazie mi intrometto solo una cosa ingegnere mi perdoni ci tengo a precisare noi non siamo contro progresso noi non ci mettiamo a fare il tifo per i cavalli contro i treni per ricordando le svolate tra l'occidente e l'oriente americano però la questione è è vero che su una questione i manutentori hanno 12 anni noi ce l'abbiamo da oggi perché quando ti entra l'auto elettrica il problema si pone in quel momento noi non siamo contro l'auto sì sì però però noi l'investimento lo dobbiamo fare oggi e la formazione lo dobbiamo fare ieri e la questione che pongo a nostre spese perché poi arriveranno i bonus per mettersi a poste e quant'altro intanto noi come sempre lo dobbiamo fare prima noi poniamo una critica non tanto verata a come si è arrivati senza formare chi per primo della filiera si trova a dover affrontare l'auto perché è bello anche la questione dell'auto io le porto la mia esperienza di una Tesla ferma nel lago di Garda perché con il traffico degli arrivi dei tedeschi durante la Pentecoste e 38 gradi fuori lei capisce che è la moglie che vuole ascoltare la sua radio radio aria condizionata coda su la superstrada del Garda lì rimani lì rimani non ce l'è o se non possiamo opporre anche la questione questo è un problema molto dei comuni ma a Milano abbiamo non siamo ancora arrivate a mille colonnine ne servono già 3500 sì a Milano ne servono 3500 e solo adesso arriveremo e con una stima di 20.000 colonnine in giro per la città poi si porrà anche un problema di dove le metti come le metti le nostre città non hanno una predisposizione per queste colonnine e quant'altro abbiamo ancora il centro storico dove alcune case vanno ancora ad olio quindi sono tutte problematiche che secondo me si dovrebbero porre poi io torno sul mio argomento dove sono più ferrato la questione non siamo contro però un attimo di formazione e penso anche d'aiuto noi abbiamo già scritto al ministero lo riscriveremo a settembre che vogliamo un incontro perché come anche già l'Anx si era posto il problema anche noi autodemolitori ci poniamo il problema che non possiamo non possiamo fare tutti questi investimenti da soli con come diceva lei il covid con i costi noi le auto le andiamo a prendere i muletti i costi la benzina non è più quella che costava un anno fa e con tutta una problematica di auto che non ci sono più perché possiamo fare tutti gli eco-incentivi che vogliamo però se alle famiglie gli aumenti di due volte tanti costi energetici hai l'inflazione all'8% e quello che ti costava il pane ieri non è quello che ti costa oggi beh ci pensi due o tre volte a comprare quell'auto elettrica con costi così alti perché bisogna fare anche una riflessione su questo noi continuiamo a dire sull'auto non potranno più circolare le auto i diesel ma veramente sono pronte le famiglie con questi chiari di luna a sostituire la macchina non lo so questo è un altro quesito che ci dobbiamo porre noi stiamo obbligando intere famiglie a demolire prima l'euro zero e poi l'euro uno e l'euro due ma non abbiamo più una forza di stipendi come un tempo anche questo ci dovremmo porre una riflessione perché è facile dai palazzi dire non circoli più con queste macchine però poi ti vai a affrontare la situazione reale e noi che viviamo anche la situazione della ricambistica e vediamo quante famiglie vengono a riparare il già riparato ma perché non ce la fanno economicamente quindi anche un attimo il collegarsi col paese reale ribadisco io non sono contrario all'auto elettrica però secondo me dobbiamo anche vederlo non dalla parte del burocrate o dalla parte di chi vive un lavoro come il nostro che non dico che facciamo fatturati miliardari però non ci porta ad avere situazioni da dover compilare l'ise però viviamo una clientela che questo lo fa e sappiamo quello che viviamo quindi anche questa attenzione dovremmo averla grazie si aggiungo solo che allora chiaramente io ho trattato due argomenti la parte ambiente e la parte sicurezza sulla parte sicurezza chiaramente il mio mestiere diciamo che lì c'è poco da no no ma io la guardo ti ringrazio veramente dell'intervento perché sulla parte ambiente ognuno innanzitutto ha la sua idea e quindi è anche condivisibile molti aspetti di cui hai accennato tu quindi in realtà sì la macchina elettrica forse sarà anche il futuro il problema è come arrivarci cioè in questo momento visto che noi produciamo molta energia elettrica e siamo già in una situazione sofferente come arriveremo poi ad avere tutte le macchine elettriche in questa fase che in otto anni perché qui si parla 2030 poi 2035 i tempi sono molto stretti e rischiamo magari di avere delle difficoltà strada facendo che riguardano un po' tutti i settori quindi il messaggio che volevo semplicemente passare era quello di come dire stare attenti in questa fase di transizione riuscire a farla in modo tale che in effetti i tanti aspetti di problemi familiari del costo eccetera non vada a incidere su un sistema già italiano già in crisi già in crisi insomma già in parte in difficoltà a livello economico per tanti aspetti e poi quello che ti dicevo all'inizio poi vabbè qui dovremmo parlare per ore ma non è questo adesso il momento giusto per dire un attimo su un aspetto che mi hai detto tu hai preso un Opel Corsa ed è quello che dicevo proprio all'inizio il problema è che l'Italia cioè se noi avessimo cioè se noi avessimo l'80% della produzione di macchine in Italia sarebbe meglio il problema è che noi abbiamo il 5% quindi quando tu hai speso per comprare questa macchina elettrica una buona percentuale dei soldi investiti da te sono andati in un altro paese e questi soldi se non rientrano per altre forme e questo era un po' il messaggio cioè era purtroppo ho capito beh adesso ripeto poi chiaramente ripeto sull'ambiente ed è giusto che sia così è anche bello il confronto perché anzi ti ringrazio dell'intervento poi dovremo parlare per ora perché qui poi ognuno ma no mi vuoi andare ancora così adesso se tu dici così domani da oggi mi inizia no ma su no sulle colonnine sicuramente ci sarà un momento ci sarà ma questo sì sì no ma man mano guarda man mano l'Italia sicuramente si adatterà quindi il numero di colonnine di posti di carica aumentano aumenteranno questo è direi proprio di sì insomma allora nell'andare nella conclusione io ringrazio ancora l'ingegner Paoletti e le tributo il mio applauso personale perché diciamoci la verità non è facile tenere un la sala attenta su un argomento che è vero che noi abbiamo un interesse però non è così diciamo simpatico e quindi complimenti veramente fatto veramente bene io spero che possa essere d'aiuto per dare anche il là ai corsi che abbiamo deciso di fare in collaborazione con la Confcommercio io da parte mia ringrazio che a venire di sabato mattina e preferire a una giornata di mare o ai propri rapporti familiari è una cosa importante ringrazio la Simmer Recycling che darà poi dei gadget finali e porto i loro saluti quindi poi se vogliono stare all'uscio se poi anche la signora Elena vuole aiutarli e da parte mia invece gli auguri per la sua laurea di mercoledì e io concludo salutandovi mi permetto però di lasciare il microfono a Roberto Capocasa no lo prendi per fare un saluto perché è l'artef io l'associazione oggi quest'anno compie anche i primi cinque anni di vita e se c'è questa associazione la dobbiamo io me lo ricordo ancora Decomondo quando abbiamo deciso di staccarci e fare qualcosa di nuovo una progettualità nuova non ci davano tanti mesi di vita invece siamo una realtà importante all'interno di Commercio ma soprattutto all'interno delle vostre autodemolizioni vi ringrazio ancora io ribadisco che l'associazione c'è sempre per ogni problematica tranne la settimana di Ferragosto perché chiude chiudiamo solo una settimana però gli uffici rimarranno aperti sempre perché sappiamo della realtà sappiamo anche che ormai il calendario delle vacanze è cambiato e proprio per questo l'associazione rimane sia nella sede romana sia nella sede di Milano alternata la sua presenza costante per ogni problematica ma anche per vedere un preventivo perché quando parlavo del PEI e anche del piano di emergenza esterna noi abbiamo visto anche preventivi di 20.000 euro alcuni colleghi che li hanno pagati perché dicevano dica allora io non 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 lo diceva che il po' quando è vero il sistema di corso è un'idea che sono operati Ok, facciamo il fatto di carta e poi dopo mettiamo un armato che lascia lì, in orma, che non è il momento che è tanto buono. Per cui, come associazione, noi dovremmo intervenire presso l'articolo perché le norme che vengono fatte siano adeguate alla realtà della produzione. Normalmente le norme, come la parola di 200, sono valendo solo per una azienda grossa, ma la azienda grossa ha altri problemi diversi da quella piccola, personale ridotto che viene a sopravvivere al mercato di St. Genesco Correnti, quindi è importantissimo riuscire a conoscere a dire che si trova, ma è un'altra cosa che sta dando, costa un'altra cosa per noi. Che vero, grazie. Non sono attuati, non riusciamo ad attuare, dovevo leggere un po' una persona, io ho affrontato una devolivazione, ho fatto una lista delle prescrizioni a cui devo rispondere, sia come ambiente, sia come sicurezza, due quasi di prescrizione. E qualcosa si sarà dimenticato. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 che siete intervenuti, vi do un'altra brutta notizia però, ho parlato con il direttore della motorizzazione delle Marche, mi ha dato dei dati allarmanti di quello che saranno i trasporti sulla questione delle auto elettriche e mi ha detto che vorrà fare una giornata proprio specifica sul trasporto delle nuove norme che ci sono, che sono andate in vigore proprio sulle auto elettriche, per cui non avremo un futuro molto roseo, anzi avremo un percorso molto difficile. Io vedo che voi che avete cavalcato oggi questa scia con me, con gli altri, per andare avanti, avete capito il senso di cosa vuol dire essere imprenditori domani. Molti rimarranno indietro, quello che va dicendo qualche società grossa in mezzo a noi, che vogliono 200 centri in Italia, si sta avverando. Perché? Perché molti di noi oggi hanno preferito andare al mare che venire a sentire quali sono le nuove cose che dovremmo fare, le tragedie che dovremmo affrontare per pagare tutto il sistema, da questi box di quarantena per le auto, allo stoccaggio delle batterie, alle quarantene che dovremmo fare. Per cui noi abbiamo incominciato un percorso. Come associazione ci siamo ogni giorno con voi, come lo potete vedere abbiamo anche col giornale Autodemolitori, abbiamo con la rivista che abbiamo, Diamo Voce l'Ambiente, abbiamo cominciato un percorso nuovo. Abbiamo parlato di catalizzatori, abbiamo parlato di auto elettriche, abbiamo parlato di ambienti, abbiamo parlato di leggi e continueremo a farlo. Grazie a voi che ci ascoltate e che ci date una mano, però l'impegno vostro è quello di sostenere l'associazione. Perché noi siamo... cioè... l'ingegnere Paoletti oggi è venuto qua con tutta la famiglia, non è stato manco pagato, non è che viene pagato. Per cui l'impegno che ci ha regalato è a dimostrazione vostra che qualcuno deve dare anche del suo. C'era il detto americano che quando tu critichi la società, ma tu per la società cosa fai? Allora questo lo dico ai miei demolitori. Cosa fanno i miei demolitori per l'associazione? Allora diamoci da fare tutti quanti e cominciamo a spargere questo messaggio. Chi lo vuole reperire, lo reperisca. Però il futuro sarà molto difficile. Io vi ringrazio e vi auguro una buona domenica a tutti quanti. Grazie di essere venuti. Solo una cosa, ringraziando ancora la presenza, vi ricordo adesso il pranzo all'Osteriano 1000, piazza Arringo 38, che mi han detto che è qua a 100 metri. Quindi vi aspettiamo per questo momento conviviale e grazie ancora.